Accomodatevi per cortesia. Buonasera a tutti. Accomodatevi per cortesia. Grazie. Scusate, accomodatevi per cortesia. Verificate che le tessere siano inserite correttamente. Grazie. 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 Bene, buonasera a tutti. Chiedo al segretario se c'è il numero legale. C'è il numero legale. Scusate, dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Nomino sclutatori per la seduta. Orsola Chiaradia, Valter De Bortoli, Sandro Del Santo. Risulta assente il Consigliere Palmisano. Arriveranno in ritardo i Consiglieri Manzon, Daniello e Passoni. Comunico che, senza l'articolo 30 del Regolamento del Consiglio Comunale, il verbale della seduta precedente è messo a disposizione dei Consiglieri, anche in formato digitale, e che può essere consultato anche con l'ausilio del computer presente in saletta Consiglieri. qualora entro la fine della seduta non siano sollevate eccezioni, il verbale si intende approvato senza votazione. Comunico al Consiglio le decisioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consigliari in merito ai lavori dell'odieno Consiglio. Inizieremo con l'esame della deliberazione riguardante allo Statuto dell'Uti. Non vi sarà la presentazione perché c'è stata allo scorso Consiglio. Consiglio. I tempi sono, come sapete, raddoppiati e i lavori proseguiranno fino all'esaurimento di questo argomento. Nel caso in cui dovesse esaurirsi prima delle 22.30 si proseguirà con l'esame di sei interrogazioni in modo cronologico, dopodiché si passerà alle emozioni. I lavori si chiuderanno alle 22.30. La Commissione poi mi ha dato indirizzo di consentire un massimo ai 30 minuti per i chiarimenti con domande concise e puntuali, chiarimenti alla deliberazione che è già stata presentata e già stato oggetto di chiarimenti. Chiedo al Signor Sindaco se ci sono comunicazioni. Non ci sono comunicazioni. Pertanto passiamo all'esame della deliberazione riguardante lo statuto dell'Uti. Proposta di deliberazione. Legge regionale 12 dissembri 2014, numero 26, riordino del sistema regione e autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative. Atto costitutivo dell'Unione territoriale intercomunale del noncello e statuto dell'Unione territoriale intercomunale del noncello. Approvazione e dichiarazione di immediata eseguibilità. Bene, chiedo allora, sono le 18.39, dobbiamo dedicare mezz'ora ad eventuali chiarimenti, se dovesse eserci. Chiedo se c'è... Non vedo richiesta di chiarimenti, pertanto consigliere De Bortoli. Prego. Prego, date la parola al consigliere De Bortoli. Grazie. Chiedo innanzitutto, cioè alla Giunta, al Sindaco, al Presidente, se in questa settimana si uscite a fare qualche conteggio sui costi, quei dati che ci mancavano. Avete provveduto a fare qualcosa? No. Bene. L'altra cosa volevo chiedere se... Non so se mi è sfuggito, volevo sapere della vecchia sede della provincia, vecchia, ma la nuova, che è costata un sacco di soldi per metterla a posto, ed è una sede autorevole, se avete idea di cosa farne. Non so, per sapere se fate il sesto museo a Pordenone, non so. Chiedo se eventualmente avete pensato a questo. E ancora una cosa, volevo chiedere se lo stesso procedimento che fa il Friuli Venezia Giulia si sta attivando nelle altre regioni italiane. Cioè, si sta attivando anche nelle altre regioni italiane. Cioè, se c'è la riforma, visto che la provincia è in Costituzione, se c'è già qualcosa che si sta muovendo in campo nazionale per la cancellazione della Costituzione della provincia e se le altre regioni stanno attivandosi come il Friuli Venezia Giulia. Ancora una cosa, abbiamo appreso dalla stampa che il Sindaco non si ripresenta perché ritiene gravoso fare il Sindaco, un lavoro che non pensava che richiedesse tanto impegno e sembra che lui diventerà anche Presidente dell'Uti. Allora chiedo, per non avere poi la sorpresa fra qualche mese che ci dica no, non voglio neanche fare l'Uti, se ha considerato il grave impegno che ci sarà, oltre a fare il Sindaco della Comune di Pordenone, anche di fare praticamente il Presidente dell'Uti nel Noncello, così chiamata. Cioè, crederebbe sapere se il Sindaco è consapevole di questo, se è d'accordo di fare anche questo. Per adesso, poi vediamo. Grazie, Consigliere. Consigliere Ribetti, prego. Date la parola. Grazie, grazie Presidente. Due, una domanda, una domanda e una richiesta. Richiesta, sembra che sono sfortunato gli ultimi due consigli comunali, ma forse questa volta è voluto. Con la convocazione mi è arrivata solo come allegato un'interrogazione. La delibera non mi è stata riallegata, perché era già stata allegata l'altra volta con il tutto. Non è una delibera, è un nuovo consiglio comunale, chiedevo che... Ah, risparmiare un po' di carta. Allora potevamo risparmiare anche un consiglio. No, 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 non è questione di risparmiare la carta, gli oggetti, gli argomenti all'ordine del giorno, i documenti vengono... No, no, ma era una cosa. Non so, io non c'entro niente. Per venire la delibera, per venire la delibera, alla richiesta di chiarimenti puntuali, ne abbiamo discusso, ne ho discusso io, ma credo anche altri colleghi, durante l'intervento l'altra sera, del passaggio, del cambio di rotta di questa amministrazione rispetto all'orientamento dato allora. Allora, la domanda puntuale è questa. Se ci spiega l'assessore, il sindaco o chi vuole, il motivo per cui questa amministrazione, non l'amministrazione regionale, ha deciso di cambiare le proprie posizioni in tema di uti unica. Però dati alla mano. No, però dati alla mano. Visto che lo studio che ci è stato presentato quella volta è uno studio molto approfondito, ripeto, e ha trovato sponda in questa opposizione, tanto è vero che era stata votata, dove con dovizia di numeri veniva spiegato come uti unica era meglio di uti più piccola, o di diverse uti, e volevo capire il cambio di rotta dell'amministrazione. Bene, grazie. Non ci sono altri iscritti, pertanto do la parola all'amministrazione. Prego, no, prego, signor sindaco. Rispondo al consigliere De Bortoli circa primo, almeno una delle domande è stata l'eventuale utilizzo della sede della provincia nel futuro. Questo dipende non certo solamente dalla decisione dell'Uti, ma dalla trasformazione della provincia e di quali saranno le competenze che comunque rimarranno fisicamente a Pordenone o non ci saranno più. Faccio un esempio. Le competenze del lavoro che sono state trasferite in regione non è che per questo abbiano portato a svuotare gli uffici della provincia per le persone che seguivano queste tematiche. Sono rimaste esattamente lì dove erano prima. Certo che come uti una delle discussioni affrontate anche con gli altri sindaci è stato sarebbe intelligente utilizzare per l'Uti, se ci sono degli spazi, degli spazi nella sede della provincia per ospitare alcuni uffici e o alcuni servizi. Un esempio concreto è per la parte informatica e i servizi informatici di base che la provincia dà oggi a disposizione, visto che di spazio tecnico ce n'è, sarebbe piuttosto stupido non approfittare di occasioni di questo tipo. Quindi sicuramente nel momento in cui alla fine formalmente questo processo di validazione dell'Uti sarà terminato, cominceremo a capire in dettaglio che cosa possa essere ospitato dell'Uti in provincia. Il resto, il resto della sede è funzione della trasformazione della provincia e di come le funzioni della provincia oggi saranno allocate in regione oppure saranno o no allocate alle Uti o ai comuni. Quindi in funzione di questa trasformazione stabiliremo bene quale sarà l'utilizzo anche della sede. Per quanto riguarda le mie vicende personali, cioè il fatto di aver dichiarato che non mi ricanderò, ricandiderò, le giudico assolutamente ininfluenti rispetto alla nostra discussione. Sono semplicemente fatti miei. E il fatto di dare la mia disponibilità o meno per quest'ultimo periodo è in funzione esattamente del completamente del mandato che da adesso, credo a maggio, immagino che, immaginiamo, pensiamo che a maggio ci saranno le elezioni comunali, accompagnerà il mio impegno negli ultimi mesi come sindaco. Le altre... prego. Grazie. Allora, ci sono altre regioni che hanno... prego. Ho capito quello che ha detto della sede provinciale. Forse ci siamo dimenticati che la sede provinciale è stata creata, studiata e risrutturata per una provincia con 51 comuni. Da quello che lei dice, penso che venga solamente utilizzata a peluti dell'oncello, con sette comuni. Gli altri uti avranno sedi dove, dislocati dove c'è il comune capofila, penso, no? Dunque, cre... Possono trovare anche la provincia, venire qua in provincia, nella sede provinciale? C'è l'uti di San Vito e Spirinbergo, per le riunioni? No, ma siccome ha detto che la provincia verrà riempita da alcuni servizi che non... Ah, ho capito, c'è... Ho capito. Grazie. No, ma tendevo a dire, una provincia così articolata, grande, no? Dunque, rimarrà a mezza vuota. Non penso che le uti, le altre quattro uti, sceglieranno la provincia come sede operativa e metteranno del personale per quello che dovranno fare. Forse lo possiamo scegliere noi, questo. Anche se vedo che state facendo una istituzione in questi giorni per essere più funzionali. Dunque, anche l'uti del noncello sarebbe più funzionale se trovasse collocazione nelle strutture comunali del comune capoluogo, di capofila, in pratica, no? Perché altrimenti avremo due sedi con la stessa persona che le gestisce. Dunque, non so, va bene che ho usato le biciclette, ma dico sì, sarà un bel lavoro andare da una sede all'altra perché nel momento che l'uti diventa operativa, diventa deliberante e diventa impegnativa anche nel tempo e nell'impiego, in pratica, no? Dico, le altre quattro uti non penso che la montagna scelga come sede Pordenone o San Vito. Cioè, è una mia valutazione. Siccome tutte le vostre votazioni sono articolate non sulla certezza, ma sulla presunzione, se mi prendete anche io posso fare una presunzione. Cerco di capire se è un impiego economico dei cittadini che hanno fatto risultato la provincia di Pordenone che non è una struttura piccolina, non è via Codafora, la billetta, è una struttura molto importante, come pensate, le altre uti avranno una sede anche loro e in questo voglio capire come si può raggiungere il risparmio di bilancio, cioè il risparmio della spesa chiamato in italiano, non in inglese. Cerco di capire questo per poi fare l'intervento. Consigliere De Bortoli, probabilmente ci sono più problemi per il comune di Clauta ad avere la sede a Maniago che per il comune di Fontana Fredda ad avere la sede a Pordenone o in provincia o in comune. Loro hanno problemi più grandi dei nostri, la distanza è molto più elevata. Ma al di là di questo, io credo che le finalità su cui si basa questa riforma non sono solo ed esclusivamente questioni di risparmio, anche risparmio, ma poi ci sono anche una serie di altri obiettivi che si intendono raggiungere. Molto spesso abbiamo parlato anche qua dentro, quando parlavamo di grande viabilità, ci dicevamo ma una strada può finire al confine del mio comune o c'è bisogno che di là ci sia qualcuno con cui discutere per capire dove poi deve proseguire. Le faccio anche tanti esempi, ogni tanto ci è discusso anche delle manifestazioni che facevamo, culturali, tante volte anche semplicemente concordare un calendario è utile, è importante. Cioè ci dà dei risultati, è utile. Sì, sì, lo so, ma guardi, oppure si può anche dire che forse abbiamo esagerato quando abbiamo fatto un teatro su ogni comune, forse bisognava pianificare meglio anche quello che sono le richieste di finanziamento per luoghi dove si fa teatro, magari è inutile che facciamo i teatri in ogni comune, probabilmente è uno spreco, insomma. Ecco, allora il territorio e noi auspicavamo che questo tipo di concertazione fosse la più vasta possibile perché nel momento che abbiamo una concertazione vasta probabilmente anche le sinergie e anche le ricadute in termini di utilizzo migliore delle risorse sarebbero state maggiori. non per niente noi in quella delibera che abbiamo inoltrato alla regione dicevamo guardate che serve noi parlavamo dell'uti provinciale ma volevamo intendere che più ampio è il bacino e più utile sarebbe stato questo lavoro di concertazione sul territorio che ci permetteva di utilizzare al meglio le risorse sempre meno risorse che abbiamo, no? Nelle altre regioni non si sta facendo ciò che si sta facendo in Friuli è assolutamente innovativo quello che si sta facendo in Friuli di Venezia Giulia nel bene e nel male non lo so probabilmente solo a conclusione di un percorso si riuscirà a capire se effettivamente i risultati sono totalmente positivi o ci sono anche delle cose io le dico già l'ho già detto l'altra volta è evidente che questa legge di riforma avrà bisogno nel suo percorso di continue manutenzioni perché non tutto quello che è stato fatto risponde alle esigenze del territorio risponde alle esigenze degli enti locali certe competenze che mettiamo in comune ci creano qualche difficoltà più di altre altre potevamo metterle in comune in ambiti ancora più estesi probabilmente e sarebbe stato ancora più efficace ed era quello che sollevamo sollevavamo con quella delibere che abbiamo fatto d'accordo tutto il consiglio comunale perché se si fosse stati un po' più flessibili probabilmente saremmo stati anche un po' più efficaci noi non abbiamo a parte gli studi che sono stati fatti in regione che sono stati presentati in consiglio i dati sulla reale condizione di risparmio che dovremmo ottenere abbiamo gli esempi che sono maturati nel Veneto e in Emilia Romagna che sono esempi concreti dove un risparmio è stato contabilizzato in maniera vera precisa puntuale su quegli studi si basano anche la possibilità di ottenere anche da noi le stesse economie e gli stessi risparmi magari non si parla solo di risparmi ma si parla anche di mettere insieme i servizi che oggi vengono gestiti in maniera non così efficace e domani insieme riusciamo a estenderli a un territorio più vasto in maniera ugualmente efficace e quindi uniforme su tutto il territorio questi sono uno degli obiettivi che la legge ci dà noi non abbiamo fatto dei passi indietro rispetto a Lutti Unica ne abbiamo scelto una soluzione diversa tra l'altro auspificavamo anche che ci fosse il comune di Fiume Veneto dentro Lutti del Noncello ed eravamo contenti di accoglierla ci sono state altre decisioni che non dipendono da noi e delle quali non possiamo farci carico come motivazione qua all'interno le rispettiamo perché un'istituzione le leggi le rispetta anche se può fare ricorso nei confronti a legge e vederne l'esito però lo dicevo l'altra volta è preferibile guidare un percorso consapevolmente con i rischi che ci sono dall'interno di un consiglio comunale che rappresenta i cittadini piuttosto che vedere un commissario esterno che viene a imporci delle regole tecniche che forse noi siamo più in grado di comprendere e di applicare al meglio rimane il fatto che sulla riforma le considerazioni politiche di parte si possono fare sono tutte giuste e rispettabili per noi c'è una legge da rispettare e su questa intendiamo dare attuazione per evitare le conseguenze di cui si parlava nella seduta precedente una delle cose che ribarcavo l'articolo 5 dello statuto parla proprio di possibilità di estendere convenzione di servizi con le altre uti ecco anche con i sette comuni abbiamo inteso mantenere quell'opportunità non è detto che alcuni servizi le uti non le gestiscano insieme e quindi va incontro a quella opportunità perché era un'opportunità che noi avevamo manifestato nella prima delibera del consiglio comunale va bene grazie consigliere Martino prego sì grazie presidente per domande di chiarimento allora gli articoli 6 7 8 della della proposta di delibera prevede prevedono le funzioni esercitate gestite dall'unione l'articolo 6 l'articolo 7 funzioni comunali esercitate dall'unione e l'articolo 8 funzioni comunali gestite dall'unione per conto dei comuni la mia domanda è questa siccome ci sono una serie di convenzioni e di accordi ad esempio ricordo quella dell'aster tra i comuni di Pordenone e di Roveredo ma anche altre convenzioni su alcune materie gestite appunto dal comune di Pordenone per conto anche di qualche altro comune chiedo se con l'entrata in vigore delle funzioni appunto previste da questi articoli da parte e gestite da parte dell'UTI se quelle convenzioni quelle e quegli accordi non so protocolli di intesa quelli che sono se cesseranno automaticamente o meno è chiaro che ci sono alcune materie delegate all'UTI e non tutte per questo motivo faccio questa domanda quali rimarranno e quali invece cesseranno e passeranno all'UTI poi un'altra domanda in particolare per quanto riguarda i servizi sociali l'articolo 7 che il cui titolo è appunto funzioni comunali esercitate dell'Unione prevede quello del sistema locale dei servizi sociali anche su questo punto siccome i servizi sociali non sono delegati tutti all'ambito completamente 100% gestisce così per capirci non so il 90 95% dei servizi una parte rimane in capo ai comuni con l'avvio dell'UTI questi servizi passeranno tutti all'UTI o rimarranno come prima in parte perché in effetti qua sono riportati alcuni articoli alcuni come della legge regionale 6 2006 sinceramente non so quali esattamente passeranno e quali rimarranno al comune e la stessa cosa riguarda il personale il personale del servizio sociale se sarà tutto accorpato insieme ai servizi all'UTI o meno compreso immagino Fontana Fredda e Zoppola ecco grazie la domanda è pertinente gli articoli all'inizio cioè quelli che faceva riferimento lei il 6 il 7 in particolare sono la mera riproposizione di quanto la legge conteneva quindi non abbiamo fatto un lavoro di cernita noi abbiamo semplicemente riprodotto quello che è l'articolo di legge nell'articolo 35 che sono le norme transitorie e finali lei vede invece che ci sono alcuni servizi che vengono lì confermati con decorrenza primo gennaio 2016 e altri che non vengono citati e vengono rimandati agli anni successivi lì invece c'è già una prima scelta nella prima scelta lei vedrà che rispetto ad esempio ad alcuni servizi tipo quello della polizia locale la polizia locale non entra in uti diciamo dal primo gennaio 2016 cosa significa significa che manterremo la convenzione con il comune di Roveredo per la polizia locale cosa diversa è per il personale il personale invece si sceglie di gestirlo a livello di sette comuni in maniera unitaria all'interno dell'organizzazione unione territoriale e di conseguenza le convenzioni in essere che oggi avevamo con Roveredo vengono meno perché c'è una organizzazione diversa che comprende comunque Roveredo e gli altri comuni così come il comune per esempio di Porcia che aveva delle convenzioni con altri territori li dismette per fare questo 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 ufficio del personale comune fra i sette comuni dell'Uti stessa l'unione territoriale per quel che riguarda i servizi sociali è chiaro che il legislatore intende che nell'interno dell'Uti vengano trasferite tutte le funzioni tutte ma è anche altrettanto chiaro che noi gradualmente cercheremo di portarle all'interno dell'Uti perché dobbiamo garantire che tutto questo avvenga senza che vi siano disservizi problemi quindi il piano o li definisce subito dall'inizio del primo gennaio 2016 o per quelle competenze residuali che sono veramente residuali rispetto all'ambito perché andando via a casa serena di fatto rimangono poche competenze residuali ecco quelle cercheremo di inserirle già nel primo gennaio 2016 o il piano definisce da quando iniziamo e solo il piano le può definire con precisione in funzione anche appunto di garantire in continuità il servizio che oggi noi eroghiamo bene grazie assessore bene non vedo nessun altro iscritto pertanto do dichiaro aperta la discussione ricordo signori consiglieri che il primo intervento ha un tempo massimo di mezz'ora e il secondo intervento di 10 minuti bene consigliere del ben prego grazie e mi auguro che questa sera finalmente si arrivi alla votazione dello statuto del deluti forse se avessimo fatto una maggior discussione nei consigli comunali sulla bozza avremmo trovato anche un contributo perché quello che poi veniva ad essere approvato fosse migliore di quello che viene proposto adesso ovviamente quando si usa il termine migliore vuol dire che si parte da bene allora il ragionamento che faccio va inteso in questo senso e quel regolamento serve e lo sentivamo qualche sera fa anche in una conferenza alla quale hanno partecipato più sindaci deluti e l'assessore è un regolamento che è uno statuto che serve a completare un disegno che parte da lontano che vede nelle regioni stato speciale autonome una centralità della regione e poi delle entità sul territorio che hanno superato la vecchia struttura della provincia e andranno ad avere delle aggregazioni in modo che ci sia per dire una collaborazione istituzionale per portare sul territorio indirizzi regionali e far sì che la regione attui delle proposte che nascono dai territori quindi una funzione istituzionale una disegno istituzionale della provincia e di queste aggregazioni e di comuni quindi sicuramente è una applicazione della norma e in questo ambito anche perché ha delle connotazioni che la qualificano in termini positivi sarà una da parte nostra una valutazione positiva ovviamente fino alle 22.30 perché poi il consiglio comunale per noi finisce come è anche opportuno che finisca magari se cominciasse alle 18 sarebbe meglio rispetto a che cominciasse alle 18.30 perché dico che mi auspico l'approvazione questa sera perché con l'UTI avremo possibilità di dare il via a un riordino anche della sanità nella nostra provincia in pratica sarebbe auspicabile che l'UTI e il distretto socio-sanitario avessero la stessa dimensione e che i comuni potessero portare avanti l'esperienza positiva degli ambiti portando alla stessa dimensione così ritorniamo anche alle esperienze positive per dire dei consorzi socio-sanitari dove sanità assistenza sociale avevano delle integrazioni lasciando sempre in comuni alcuni aspetti di intervento economico su alcune situazioni di bisogno che difficilmente si integrano in una programmazione sociale quindi benvengano questi questo l'avvio dell'UTI che poi che si chiami Marco del noncello che si cambia del cellina che si chiami del meduna non è importante ma quello che va valorizzato è che su queste UTI si dà molto interesse all'ambiente alla salvaguardia dell'ambiente all'ambiente come risorsa all'ambiente come bene comune per cui lì dentro io direi che anche se mettessimo di più sarebbe ancora positivo quello che deve essere fatto ma non è importante il nome è importante quello che si fa e allora su questo aspetto il vice sindaco Mazzer ha detto adesso in maniera incontrovertibile che le cose che si fanno hanno bisogno di migliorie di manutenzioni per cui se questo statuto oggi è migliorabile faremo sì che nel futuro questo possa essere migliorabile ulteriormente per essere sempre più legato ai bisogni del territorio quindi per dire è un'apertura su quello che viene fatto d'altronde d'altronde queste dimensioni più ampie oggi con l'utilizzo dell'informatica rispetto al passato consentono anche velocizzazioni di scambi di informazioni di servizi per cui la dimensione dell'UTI è sicuramente quello che consente di consente di utilizzare meglio le risorse che si hanno perché in qualche modo le disponibilità economiche sono finite dobbiamo trovare all'interno del funzionamento anche della macchina pubblica delle risorse che ci servono per fare di più e questo non può che essere che derivare da un riordino così come viene la sanità da un riordino di alcune attività che liberano risorse per dare diciamo a parità di costi migliori servizi e più orientati alle persone per cui mi pare che questo aspetto importante abbia trovato da parte nostra un indirizzo di valutazione favorevole per cui questa farà anche una dichiarazione di voto ovviamente per noi sarà l'approvazione del documento dei sindaci per cui il nostro è un voto ai sindaci che hanno proposto questo regolamento con tutti i loro usili che avevano e non è assolutamente da confondere con valutazioni circa le maggioranze che sostengono quei sindaci i sindaci hanno un valore importante hanno elaborato un documento e noi approviamo il documento di quei sindaci grazie consigliere del ben consigliere cabibbo prego grazie presidente ecco questa sera noi faremo una delibera storica direi non solo importante ma veramente storica per il futuro di questo comune e sicuramente è vero quello che qualcuno diceva nella precedente seduta del consiglio comunale cioè che ai cittadini forse in questo momento non preme molto sapere quale tipo di organizzazione quale tipo di assetto c'è il rischio cioè che il parlare di questi argomenti sia un po' un parlarsi addosso per noi addetti ai lavori però è pur vero che forse questa regione avrebbe fatto meglio a concentrarsi sui problemi dell'economia sui problemi delle famiglie anziché adottare provvedimenti di falsa riduzione della spesa pubblica ma è anche vero che abbiamo il compito di affrontare in modo anche tecnico questa delibera e questa materia perché siamo qui anche per questo proprio per cercare di capire se questo statuto se questa bozza di statuto è o non è una bozza di statuto che per i cittadini di Pordenone di questo comune per i cittadini che ci hanno eletto sia in maggioranza che in opposizione potrà portare buoni buoni frutti premesso che non condivido quello che diceva il sindaco nel suo intervento lunedì scorso e cioè sostanzialmente che questa legge regionale avrà anche dei difetti ma dà delle opportunità perché è una visione un po' macchiavellica del fine che giustifica i mezzi che tralascia un po' il come raggiungere il fine il fine naturalmente è quello di accorpare dei servizi di renderli meno onerosi di sfruttare meglio le risorse quindi un fine che potrebbe anche essere considerato certamente in modo positivo ma il come non è assolutamente secondario ed è per questo che adesso dirò come questa legge regionale in qualche modo ci obbliga e già questo è un errore iniziale il fatto che vi sia un obbligo da parte della regione di costituire le unioni territoriali e anche il come questa bozza di statuto non fa fino in fondo e davvero gli interessi dei cittadini di Pordenone allora intanto il fatto che la regione obblighi i comuni ad associarsi se veramente si voleva andare incontro alle esigenze del territorio in qualche modo per colmare il vuoto delle province perché questo è il vero problema il vero problema è che sono state abolite le province senza tenere conto delle conseguenze che questo avrebbe causato in termini di gestione dei servizi che hanno un ambito sovracomunale almeno sotto un certo tipo di profilo ecco quindi non si è però lasciata la libertà ai comuni di associarsi secondo le vere esigenze del territorio l'imposizione l'obbligo la previsione di una sanzione in termini di riduzione dei contributi regionali veramente diventa inaccettabile tra il 2013 e il 2014 secondo le rilevazioni che sono state svolte proprio dalla regione il numero di unioni di comuni e di associazioni intercomunali è calato drasticamente perché è passato da 6 unioni di comuni e 35 associazioni a 4 unioni e 25 associazioni intercomunali allora questo nel 2013 e nel 2014 perché è accaduto questo ovvio che possono esserci molte motivazioni ma credo che la principale sia la difficoltà nel coordinare nel far crescere tali gestioni e nel riuscire a trovare dei punti di contatto nelle scelte riguardanti il territorio quindi le unioni dei comuni le associazioni dei comuni nella storia del nostro paese ma in modo particolare della nostra regione dimostrano che è difficile che è di difficile attuazione se non c'è una vera uniformità di intenti ma soprattutto una identità e una coesione che arriva prima di tutto dai cittadini e dal territorio secondo secondo punto qui si vogliono ottenere dei risparmi di spesa dei risparmi di spesa quindi obbligati il fatto è che non abbiamo numeri il fatto è che come è stato evidenziato anche nella precedente seduta del consiglio comunale non siamo certi che da un punto di vista economico finanziario la scelta della gestione associata dei servizi da parte dei comuni sia una scelta vantaggiosa non solo ma è previsto che la regione al termine del triennio effettui dei controlli sui significativi risparmi di spesa e che altrimenti potrà adottare misure di penalizzazione finanziaria allora vuol dire che non è automatica la diminuzione della spesa se è previsto un controllo quindi con quali criteri si misureranno i risparmi come verremo giudicati dalla regione e soprattutto perché non si applicano gli stessi criteri per le funzioni trasferite alla regione cioè chi monitorerà se la regione ha o non ha diminuito la propria spesa allora forse effettivamente una vera riduzione della spesa pubblica si potrebbe attuare ad esempio riducendo le spese dei 93 enti 93 enti che ci sono nella nostra regione e che svolgono attività che appunto riguardano il territorio e quindi penso ai bacini agli enti parco e a tutti gli altri 93 enti della nostra della nostra regione non solo ma la spesa per il personale risulterebbe bloccata cioè la gestione associata dei servizi non potrà almeno nell'immediato toccare la spesa del personale quindi non c'è una riduzione naturale delle spese di funzionamento della macchina e a questo aggiungiamoci anche le difficoltà di gestire una macchina organizzativa e la gestione appunto dei dipendenti allora tutto questo tutto questo questa imposizione in realtà si pone in netto contrasto con tutto quello che fino ad ora nel nostro paese si era tentato di fare è un'inversione di rotta che senza entrare nelle questioni dei ricorsi attualmente pendenti di cui non ho neanche tra l'altro preso cognizione quindi non conosco le motivazioni dei ricorsi ma da non tecnico cioè da politico dico ma la regione si rende conto e soprattutto questo consiglio comunale si rende conto che la creazione di questo ente intermedio di questa unione territoriale in realtà è esattamente l'opposto di quello che ci dice l'articolo 118 della costituzione la costituzione riformata nel 2001 con la riforma del titolo quinto ci dice che le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a province e vabbè città metropolitane regioni e stato sulla base dei principi di sussidiarietà differenziazione ed adeguatezza ora questa riforma che ci impone Deborah Serracchiani è contraria innanzitutto al principio di sussidiarietà che cos'è il principio di sussidiarietà l'amministrazione deve avvenire a livello più vicino al cittadino ma questo perché per garantire innanzitutto un'adeguatezza nei servizi ma anche un controllo nelle scelte politiche e nelle scelte amministrative io mi domando con quale con quale criterio il prossimo sindaco di Pordenone potrà o meglio i prossimi candidati sindaci al comune di Pordenone potranno dire ai loro elettori abbiamo questo programma realizzeremo questo programma il sindaco di Pordenone è completamente esautorato dei propri poteri proprio in forza del fatto che dovrà contrattare continuamente con gli altri comuni le scelte più importanti cosa diremo ai nostri elettori si dateci il voto sulla fiducia perché siamo belli perché siamo simpatici poi però dovremmo andare con il sindaco di Pordenone di Porcia di Roveredo e lì decideremo un po' e faremo quello che potremo fare perché in realtà altro non possiamo fare questo secondo me è un aspetto veramente molto grave la violazione del principio di sussiderietà ma soprattutto anche la violazione di un principio democratico fondamentale cioè del fatto che io cittadino voto per quella persona perché credo che quella persona potrà realizzare quello che dice e se non lo fa la prossima volta la mando a casa sarà ben troppo facile per il prossimo sindaco di Pordenone dire ma questo non abbiamo potuto farlo per colpa del sindaco di Cordenone e di Porcia che si sono messi d'accordo e ci hanno impedito questo e quello al di là diciamo anche di questo tipo di dibattuta è il testo unico degli enti locali il decreto legislativo 267 del 2000 che dice all'articolo 13 che spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione il territorio comunale in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico questo ovviamente aggiunto alla riforma del titolo quinto della costituzione quindi al combinato disposto dell'articolo 117 118 dice che in via primaria la titolarità generale delle funzioni amministrative deve essere in capo ai comuni riservando alla legislazione dello Stato e del Regione funzioni fondamentali ma di tipo residuale si parla infatti di trasformazione dei comuni in amministrazioni a competenza piena municipalismo di esecuzione e questa è anche la riforma fatta a livello nazionale ma che anche a livello regionale vale che assegna un forte potere che dà un premio di maggioranza al sindaco eletto proprio per permettergli di esercitare questa amministrazione a competenza piena in forza di questo principio di municipalismo di esecuzione allora qui non si tratta di fare del campanilismo di dire che l'Italia è il solito paese degli 8000 campanili degli 8000 comuni il fatto è che ci sono dei principi che vogliono vogliono e hanno deciso a livello costituzionale che l'amministrazione sia il più vicino possibile ai propri cittadini e questo sistema il sistema della legge regionale istitutiva degli uti scardina scardina questo tipo di sistema ora questo per quanto riguarda l'obbligo che ci deriva dalla legge regionale passo adesso brevemente in rassegna alcune questioni invece che si rilevano presenti in questo statuto perché è pur vero che alcune cose ci sono imposte dalla regione ma un minimo di possibilità di scelta poteva essere anche esercitato per rafforzare all'interno dell'util ruolo del comune di Pordenone cosa che non è stata fatta proprio nella risposta che dava prima Assessore Mazzer rispetto all'articolo 7 l'articolo 7 funzioni comunali esercitati dall'unione ricopia pedissequamente l'articolo 26 della legge regionale quindi tutte le funzioni comunali che possono essere esercitate dall'unione secondo la legge regionale qui sono riproposte con un elenco che è fatto con un coppia e incolla peccato però che l'articolo 29 della legge regionale prevede anche che nelle uti con più di 100.000 abitanti quindi come la nostra il comune che ha il maggior numero di abitanti può esercitare in forma singola fino a tre di queste funzioni elencate nell'articolo 26 nonché le funzioni di cui è l'articolo 27 e l'articolo 27 è invece quello di cui si parla all'articolo 8 quindi addirittura tutte le funzioni previste dall'articolo 27 cioè programmazione gestione dei fabbisogni dei beni e servizi in relazione all'attività della centrale unica di committenza regionale servizi finanziari e contabili controllo di gestione opere pubbliche e procedure spropriative pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata procedure autorizzatorie in materia di energia organizzazione e servizi pubblici di interesse economico generale quindi questioni di non poco conto potevano anche essere esercitata in forma autonoma dal comune di Pordenone questa è una scelta che è stata scartata e forse semmai ci direte poi perché di questo comunque sicuramente chi voterà a favore di questa delibera si assumerà certamente la responsabilità politica ed è per questo che faccio veramente appello ai consiglieri comunali che pur in maggioranza hanno in qualche modo sottolineato degli aspetti critici fortemente critici di questa bozza e di questa legge mi riferisco in modo particolare all'intervento che ho molto apprezzato del consigliere Salvador cercate di essere liberi e indipendenti ed autonomi nel decidere per il bene di questa città qui veramente non si può votare in base alle appartenenze o meno più o meno spinte al partito democratico perché veramente è in gioco il futuro del rapporto cittadini politici in questa nostra città articolo 12 della bozza di statuto ciascun sindaco all'interno dell'assemblea esprime un voto e le deliberazioni sono assunte all'unanimità dei voti dei presenti alla seconda votazione si vota con una maggioranza necessaria di 5 voti 5 voti vuol dire 5 voti su 7 vuol dire quindi che in un uti di 116.000 abitanti il comune di Pordenone che ha 51.600 quanti abitanti abbiamo 50.000 quindi la metà degli abitanti dell'uti gli altri comuni ben possono decidere ben possono decidere al posto di Pordenone e pertanto condizioneranno condizioneranno le scelte della città con più abitanti ma la cosa ancora più grave è che se non si raggiunge la maggioranza di 5 voti su 7 è obbligatoria una seconda convocazione e alla seconda convocazione si voterà si voteranno le delibere con il voto favorevole del 60% dei voti ponderali presenti ora il comune di Pordenone in base agli abitanti ha 12 voti 12 voti su 38 vuol dire che il comune di Pordenone dovrà necessariamente per aggiungere i 23 voti ponderali richiesti per la maggioranza cioè il 60% per aggiungere il 23 22,8 dovrà di volta in volta andare a contrattare a cercare il compromesso con gli altri comuni con i comuni più piccoli perché Pordenone ha 12 voti ponderali allora questo è un altro fatto molto molto grave per la nostra città io qui sono in consiglio comunale di Pordenone e difendo gli interessi della mia città e non mi va assolutamente bene ma non per un vezzo perché credo che sia un danno per i nostri cittadini il fatto che il comune di Pordenone su scelte strategiche quali bilanci pianificazione urbanistica contrazione di mutui eccetera rimarrà ostaggio ostaggio dei comuni più piccoli allora vado concludendo qui noi siamo di fronte ad una ennesima sferzata nei confronti di questa città non è vittimismo non è demagogia contro né il partito democratico né Deborah Serracchiani però è evidente ed è sotto gli occhi di tutti che negli ultimi due anni questa città veramente sta perdendo pezzi uno dietro l'altro prima l'abolizione della provincia e dell'unica provincia che è stata di fatto veramente in qualche modo soppressa come ente salvo poi rimanere in piedi con tutta la sua struttura perché di fatto solo Pordenone non ha più un presidente della provincia eletto direttamente dai cittadini l'ospedale che per motivi di mera campagna elettorale non è andato in porto dove doveva andare in porto e come doveva andare in porto con il conseguente piano sanitario che ci penalizza la prefettura ultimo dei casi con la perdita cascata di tutte le funzioni che riguardano una centralità di Pordenone nel territorio circostante perché certamente rimarrà un presidio della Polizia di Stato ma non avere più una questura e avere un semplice commissariato comporterà delle conseguenze in termini di sicurezza per i cittadini oltre al fatto di non avere più un prefetto che possa in questo modo anche coordinare tutti i servizi perché non è solo la patente o la concessione della cittadinanza italiana che passa dalla provincia ci sono funzioni molto importanti di coordinamento ad esempio delle forze dell'ordine bene tutto questo tutto questo ci obbliga e in modo particolare obbliga chi fa parte della maggioranza di questo consiglio comunale ad una riflessione molto attenta perché qui noi non solo andiamo contro un principio costituzionalmente garantito che è il principio della sussidiarietà ma qui noi perdiamo ruolo come città nei confronti del territorio perdiamo la possibilità di essere vicini alle esigenze dei nostri cittadini ai quali potremmo dire solo relata refero non potremo assumerci degli impegni non potremo portare avanti dei programmi perché più nulla dipenderà da noi più nulla dipenderà dal consiglio comunale o tanto meglio dalla giunta e dal sindaco di questa città e questo è un fatto veramente ripeto molto grave perché se i cittadini si allontanano sempre di più dalla politica è anche perché in qualche misura sono anche leggi fatte da politici come in questo caso che vogliono tenere fuori dalla politica i cittadini che vogliono tenere lontani i cittadini dalla politica anziché fare un processo di vera democrazia e di vera partecipazione democratica di cui il partito democratico si riempie la bocca ma che poi nei fatti con leggi come queste assolutamente dà prova di eseguire poi e di attuare poi esattamente il contrario grazie consigliere consigliere perfido prego grazie grazie presidente devo dire che dove ha concluso il collega cabibbo voleva essere proprio il punto di partenza del mio intervento ovvero vi siete presentati per anni a costo di essere fermi politicamente ovvero nel senso del non essere stati in grado di prendere alcuna decisione per l'eccesso di volontà di prendere decisioni partecipate questa maggioranza ha detto il Pums di due settimane fa a vostra detta era l'esempio lampante della partecipazione a 360 gradi a tutti livelli a tutti i livelli delle rappresentanze dei cittadini e dei stakeholders ecco questa maggioranza ha sempre fatto della partecipazione elettorale democratica a suo dire il fiore all'occhiello in tutto ciò che riguardava le cose fondamentali di questa città di questa comunità quindi una maggioranza di centro-sinistra che dice noi le decisioni importanti di questa città le vogliamo prendere sulla base democratica più ampia possibile questa cosa vi ha comportato quattro anni di molta lentezza nel prendere decisioni ma questo è un altro discorso quindi questa maggioranza che fa della democrazia il suo fiore all'occhiello questa sinistra che si fa della democrazia e della tutela della costituzione il suo fiore all'occhiello oggi ci viene a dire che dobbiamo assolutamente votare a favore di questa di questa riforma una riforma della quale non sapete dirci quanto andremo a spendere una riforma che viene fatta per risparmiare nell'ottica di una spending review che viene fatta perché bisogna abbattere i costi della burocrazia della spesa del pubblico e non ci sapete dire quanto si andrà a risparmiare una riforma che viene fatta sulla scia dell'eliminazione delle province che almeno si sapeva che aveva un costo di 1,6 euro per cittadino e mentre ci volete far entrare nell'Uti che non sapete dirci neanche quanto ci verrà a costare ecco voi ci venite a dire dobbiamo votare questo senza spiegarsi per quale motivo allora io non ho mai fatto le cose perché mi sono state imposte se piuttosto non ero convinto me ne sono andate sempre a studiare e verificare i dati e devo dire che rimango particolarmente sono costretto ad ammetterlo pubblicamente deluso di vedere fior fiore di professionisti di rappresentanti istituzionali politici che hanno sempre dato il loro meglio nella loro attività politica accettare anche questa volta a orecchie basse un'imposizione che arriva dall'alto pistola la tempia o voti questo o altrimenti non puoi continuare nella tua attività politica allora io mi chiedo qual è la libertà di un di un consigliere comunale democraticamente eletto nel momento in cui non può prendere neanche una decisione in libertà di coscienza di fronte all'imposizione che arriva dall'alto perché un conto è quando si parla del fatto che certo non possiamo essere tutti esperti di tutto per carità ma non bisogna neanche andare all'eccesso di quella democrazia dell'elite che poi si è trasformata anche in qualcos'altro quando le decisioni non vengono prese più da chi rappresenta il popolo in modo democratico ovvero in modo democraticamente eletto a soffraggio universale ma bisogna accettare le decisioni prese da chi in un sistema elettorale che sta andando a ristringere sempre di più la rappresentatività popolare con una riforma del senato che viene fatta da senatori nominati fatta in seguito ad una riforma elettorale che prevede che i deputati non siano eletti ma nominati dal segretario di partito in cui si procede facendo le riforme degli enti locali creando degli enti di secondo grado per cui nessuno viene eletto ma tutti nominati ecco allora in quest'ottica il fatto che sia la sinistra portare avanti questo tipo di riforme che sta non tagliando i costi dello Stato ma sta tagliando fette di democrazia popolare io mi chiedo come sia possibile che persone intellettualmente oneste preparatissime che hanno sempre fatto del loro meglio per la comunità di Pordenone per la comunità per la quale sono candidati a svolgere il proprio mestiere di consigliere comunale di rappresentante del popolo mi chiedo come sia possibile non accettare neanche un emendamento che fosse stato presentato la settimana scorsa che erano emendamenti minimi ma minimi nel senso alla base della democrazia mi chiedo come sia possibile che questa maggioranza di centro-sinistra che quando c'era da difendere la Costituzione nei confronti del diavolo Berlusconi faceva le marce col popolo viola con la Costituzione in mano e oggi che c'è Renzi che prende a calci la Costituzione dicendo tu non devi più essere eletto ma sarai nominato da me Seracchiani che dice voi non dovete più essere eletti ma sarete nominati da me e per avere i contributi per la vostra comunità dovrete venire a chiedere cappello in mano con le limina code se c'è la possibilità di avere o meno il contributo per la vostra comunità mi chiedo come sia possibile intellettualmente ammissibile per un consigliere comunale di centro-sinistra accettare a orecchie basse questa cosa e lo dico non per fare demagogia veramente lo dico perché è così avete dimostrato noi non è che abbiamo chiesto i costi e i risparmi dell'UTI perché volevamo fare l'opposizione ad oltranza l'abbiamo fatto perché volevamo sapere sulla base di cosa voi decidevate di togliere fette di rappresentatività democratica del comune di Pordenone in base a cosa decidevate che il comune di Pordenone non era più libero di poter scegliere della propria libertà e decidevate di delegare la libertà del comune di Pordenone garantita da uno statuto da uno statuto che è riconosciuto dalla Costituzione e voi decidevate di dare questa sovranità ad un ente creato così dall'oggi al domani da Serracchiani e Panontin attenzione Panontin altro assessore non eletto il quale è obbligato a portare avanti questa riforma perché altrimenti il suo incarico di assessore immediatamente si libera perché non avendo la forza elettorale non ha neanche la possibilità di dire no guardi signora presidente questa cosa non va bene sarebbe da cambiarla no perché la presidente fa quello che in questo sistema democratico voluto dal centro-sinistra il primo che porta a casa il compitino ovvero Serracchiani va da Renzi e dice guarda io sono stata la prima a portare avanti questa riforma è a cascata Panontin dice io sono stato il primo a portare a casa questa riforma è a cascata anche voi accettate a orecchie basse quello che vi viene imposto siamo stati i primi ad accettare la riforma delle province ecco allora che non si fa più la gara a chi sostiene la propria comunità ma si fa la gara a chi si avvicina più al sole a chi si avvicina di più al sole in modo tale da poter avere una visibilità maggiore magari spuntare un posto da deputato in primo posto in lista del partito democratico di un altro partito e fare in modo che poi magari si riesca ad avere visibilità personale allora io chiedo veramente che si possa affrontare con libertà di coscienza un dibattito del genere perché non è possibile che si ascoltino interventi pensati e pesati in cui si viene a dire è vero c'è qualcosa che non va ma accettiamo ma com'è possibile accettiamo voi siete stati eletti dai cittadini di Pordenone per rappresentare il comune di Pordenone e fare in modo che si potesse decidere qua delle sorti del comune di Pordenone e allora nel momento in cui e non voglio ripetere quello che dice il collega Cabibo nel momento in cui gli statuti comunali sono riconosciuti dalla Costituzione e hanno e hanno una centralità e un'autonomia io mi chiedo come si possa pensare ma anche non serve non serve aver studiato diritto come si possa pensare di cedere fette di sovranità popolare ad un ente che non è neanche previsto dalla Costituzione neanche previsto dallo Statuto e quindi non lo deleghiamo a chi non si sa lo deleghiamo a Panuntin il quale dice boh ragazzi allora voi avete fatto l'utile noncello ci vediamo a Trieste il giorno tal dei tale e venite il primo che arriva magari si prende il 50% del contributo che arriva secondo se ne prende il 20% che arriva per ultimo se devi mettere a posto la scuola non ce n'è mi dispiace e passa il prossimo anno perché non ha questa persona questo esponente questo rappresentante del popolo non ha più la potestà che gli deriva dalla forza elettorale di dire no io rappresento la mia comunità e mi devi prestare attenzione perché voi state dando voi state dando a occhi chiusi una potestà ad un ente che non vi pesa sulla base del vostro peso elettorale ma vi pesa sulla base della vostra vicinanza con il vostro referente politico allora il giorno in cui sarete al governo magari vi presta attenzione il giorno in cui non siete non vi preste neanche attenzione ma visto che non voglio eccedere poi perché magari si potrebbe scendere in casi distanti che non riguardano Pordenone stamattina leggevo i quotidiani e leggo che tra il comune di Pordenone e il comune di Roveredo che dovrebbero far parte tra l'altro poi della stessa utile del noncello stanno litigando su i posti letto nell'RSA e allora io mi chiedo voi state dando fette di sovranità popolare ad un ente che non esiste e non sapete neanche mettervi d'accordo sull'RSA con un comune che è qua vicino con il quale state collaborando cioè io mi chiedo come ci riusciremo a mettere d'accordo quando saremo sette comuni e dovremo metterci d'accordo sulla base di un sistema di voto che è appena evidenziato il collega Cabibbo e allora io dico fate qualcosa di sinistra prendete in mano un pelino di coraggio e dite guardate non ci va bene vogliamo dare da Pordenone un segnale questa riforma dell'UTI è comprensibile ma non deve essere così la riforma dell'UTI le riunioni le unioni che sono sacrosante quando ci sono dei risparmi devono partire dal basso non devono essere imposte dall'alto come possiamo fare ad accettare una riforma della quale non sappiamo quanti soldi andremo a risparmiare ma ci viene imposta dall'alto con sanzioni sanzioni cioè siamo arrivati a livelli in cui veniamo trattati come i paesi del terzo mondo che ancora non hanno la democrazia cioè le sanzioni vengono applicate a quelli che non applicano la democrazia noi siamo un comune eletto democraticamente se decidiamo di non entrare nell'UTI perché non troviamo un vantaggio non ci possiamo far imporre delle sanzioni tra l'altro poi senza capire per quale motivo i cittadini tra l'altro che vedo ormai due persone sempre presenti bravi loro ad essere costanti ci stiamo impegnando in un dibattito per una imposizione che arriva dall'alto che i cittadini non capiscono fino a quando non vedranno quanto gli andrà a costare questa imposizione dall'alto ecco allora di nuovo si prova a dire che stiamo tagliando i costi invece l'unica cosa che viene tagliata da voi è la democrazia leggevo l'altro giorno leggevo l'altro giorno che state parlando di mostrando anche una certa schizofrenia la specialità della regione l'unica specialità della regione che in questo momento è riuscita ad applicare è quella di applicare un centralismo democratico che non lo vivono neanche le regioni è stato ordinario mentre degli altri enti regionali le province per il momento vengono mantenute noi abbiamo fatto fuori le province abbiamo trasformato in enti in secondo grado ci sono alcuni di noi che sono consiglieri alcuni di noi sono consiglieri provinciali e voi stessi vi rendete conto che delle volte non potete partecipare a questi consensi perché consessi perché avete il consiglio comunale e allora mi chiedo se dobbiamo continuare ad accettare riforme che al momento del dunque alla prova dei fatti si dimostrano essere non realizzabili ed è per questo che insisto a dirvi dopo che avete accettato l'imposizione della scelta dell'ospedale e mi riferisco a questo partito che dice di essere lista civica ed era a favore dell'ospedale in comina ed ha accettato senza discutere senza dibattere ha accettato in modo supino la scelta dell'ospedale in via montereale dopo che c'erano dati tecnici scientifici c'erano fiorfiore di relazioni da parte di professionisti che dicevano che non era la scelta ideale questa parte politica purtroppo accettato in modo supino il fatto di overfare l'ospedale in via montereale dico almeno questa volta che si tratta di una scelta in cui si può parlare di libertà di coscienza chiedo che si faccia almeno una valutazione per dire guardate rivediamo assieme passo passo questa riforma che qualcosa di positivo può averlo ovvero dove si può risparmiare andiamo a realizzarlo ma deve essere una cosa che parte dal basso e deve essere riconosciuta dai cittadini dicevo quando andiamo a parlare di democrazia andiamo a parlare di democrazia più o meno a tutti i livelli a tutti i livelli è riconosciuta la possibilità di una partecipazione popolare per cambiare eventualmente la disciplina del contesto legislativo nel quale viviamo e al quale dobbiamo fare riferimento avviene per la costituzione avviene per le leggi ordinarie avviene per le leggi elettorali si può modificare appunto una cosa importantissima come la costituzione possiamo farlo anche noi in comune di Pordenone e invece per quanto riguarda lo statuto lo statuto dell'Uti in qualcosa che viene imposto in qualcosa che viene imposto da un ente regionale che oggi ha deciso che questa è la cosa giusta da fare lo statuto dell'Uti non è sottoponibile al referendum popolare allora quando dicevo fate qualcosa di sinistra ora noi come opposizione proporremo un emendamento un emendamento che fa riferimento all'articolo 2 articolo 2,3 la lettera allora referendum sono consentiti i referendum consultivi e propositivi per questione di rilevanza generale attivanti alle materie di competenza dell'Unione non possono essere in ogni caso sottoposti al referendum il presente statuto e le integrazioni o modifiche lo stesso allora andando a vedere lo statuto comunale cosa dice la disciplina del referendum per quanto riguarda i referendum comunali l'articolo 2 dice del comune di Pordenone possono essere sottoposti al referendum comunale consultivo materie di competenza esclusiva del consiglio comunale così come determinate dall'articolo 8 dello statuto l'articolo 8 dice il comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale il referendum consultivo sulle materie di competenza del consiglio comunale con esclusione di quelle riguardanti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi per quanto riguarda tutto ciò che attiene la partecipazione a denti di secondo grado o per quanto riguarda la possibilità di sottoporre tramite referendum popolare consultivo su tutti gli altri temi lo statuto del comune di Pordenone che è sovrano permette che ci possa essere un referendum consultivo ecco allora che chiediamo di emendare l'articolo 22 al comma 3 alla lettera rimuovere tra virgolette il presente statuto e l'integrazione o modifica lo stesso nonché la chiusa in virgolette rimanendo tra materie non sottopinibili al referendum le norme regolamentari di funzionamento degli organi dell'unione facendo in modo come previsto dallo statuto del comune di Pordenone di poter consentire che anche che anche lo statuto del lutti venga sottoposto al referendum popolare perché se avete deciso di cedere fette di sovranità ad un ente ancora non riconosciuto deve essere democraticamente corretto che i cittadini di Pordenone possano esprimersi anche sulla questione della partecipazione o meno o delle mandabilità o meno dello statuto io ripeto è come espresso anche da altri colleghi del centro-destra siamo tutti d'accordo che bisogna risparmiare sulla macchina amministrativa su quanto incide per ogni cittadino lo Stato e la spesa pubblica quindi nel momento in cui questa cosa viene attuata non possiamo che essere d'accordo non ci avete fatto sapere quanto si risparmerà non abbiamo capito per quale motivo dobbiamo accettare senza colpo offrire questo statuto chiediamo che veramente si riprenda in mano tutto quanto che sia un procedimento un processo che parta dal basso che eventualmente siano i comuni a dire qua ci metteremo d'accordo su questa cosa ci metteremo d'accordo perché è corretto perché andremo a risparmiare per asfaltare le strade andremo a risparmiare per mantenere gli asili andremo a risparmiare sulle case di riposo per questo 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 motivo non riusciamo a capire per quale motivo dall'oggi al domani una realtà un ente come la regione che non è mai stato un ente di prossimità non sa neanche cosa succede tra Pordenone e Cordenons o tra Cordenons e Sanquirino tra Sanquirino e Porcia non sa assolutamente cosa succede non è possibile che un ente che non è mai stato di prossimità venga a dire a noi cosa dobbiamo fare per risparmiare e soprattutto non è in grado lei stessa di dire quanto risparmiamo quando l'assessore Pannuntin è stato chiamato in causa ha sparato prima 130 milioni di euro poi 27 milioni di euro dicendo che dicendo che si risparmiamo in questo momento non sappiamo dirvi quanto però si andrà a risparmiare siete persone troppo oneste intellettualmente per accettarvi farvi imporre questa scelta veniteci incontro facciamo una scelta di democrazia andiamo a risparmiare dove si può risparmiare che sia una cosa che parta dal basso che non sia imposta dall'alto anche per rispetto nei confronti dei cittadini che continuano a partecipare democraticamente ai nostri consigli comunali per rispetto di chi viene a votare ogni santa volta che facciamo il consiglio comunale e per rispetto anche di consiglieri comunali che prendono seriamente il proprio incarico e vogliono guardare negli occhi i propri cittadini e non dover dire guardate non ho potuto fare niente perché della mia forza elettorale non posso farmene niente perché mi hanno puntato una pistola da tempia e devo accettare qualsiasi cosa mi impone Serracchiani grazie consigliere consigliere De Bortoli prego io volevo soltanto iniziare dicendo non ce l'abbiamo con voi questo deve essere chiaro che non ce l'abbiamo con voi gli interventi fatti la scorsa settimana con lo spirito di lancio come abbiamo potuto sentire sono stati concretizzati oggi io come consigliere di Forza Italia il nostro gruppo si è distribuito un po' gli incarichi e penso che l'intervento che ha fatto il nostro collega Cabibo a nome di Forza Italia penso che sia stato un intervento molto appropriato lui si è riuscito a fare un'analisi perfetta di questa legge che non piace e guardi Assessore mi dispiace rivolgere a lei ma neanche a lei piace io sono convinto che a lei non piace questa legge lei si arrabbica negli specchi per dirci la buona di questa legge ma il collega Cabibo gliel'ha smontata proprio punto per punto poi per finire con lo perfetto ma penso che se questo gruppo di consigliere di maggioranza potessero esprimersi liberamente penso che potrebbero dire abbiamo sentito il collega che ha tentennato un po' su questa magari spinto anche dal fatto che del suo ente viene soppresso mi dispiace del collega del Ben volevo ricordare che mi piace quando dice che ha dato un voto ai sindaci collega del Ben ha dato un voto anche ai commissari perché lei sa che 60 comuni sono stati commissariati e votando questa legge noi abbiamo fatto il voto non solo ai sindaci ma anche questi commissari perché l'intento era preciso se non approvate lo statuto non vi diamo i contributi vi togliamo il 30% un ricatto da Corea del Nord dico e vi mandiamo il commissario che vi spara sulla tempia e vi dice faccio io voi esautorati dal voto popolare e il commissario approva lo statuto di questa famigliata legge ora io penso che questa tutto può essere meno che democrazia perché se la legge era così buona io penso che anche i vostri sindaci di sinistra l'hanno bocciata cioè non hanno votato e hanno atteso il commissario se questa legge era buona non serviva porre in essere questi ricatti questi sopprusi il commissario la detrazione del trasferimento regionale non serviva se la legge era buona era buona e chi di noi è contrario soprattutto il nostro gruppo contrario a una riforma di questo Stato chi noi no siamo i primi fautori di questo vi abbiamo dato la scorsa settimana io capisco che è talmente fatto nel modo in cui se voi modificate una virgola questo Stato deve tornare in sette comuni in sei comuni perché deve essere riappropriato riapprovato da questi comuni l'inghippo è proprio questo che è fatto in un modo che i comuni una volta partito un'approvazione di uno statuto non si può toccare anche se la maggioranza o la minoranza dà degli input buoni per migliorarlo non potrebbe toccarlo e guardate bene che anche nel prossimo futuro voi non potete toccarlo se non trovate i numeri che ha detto prima il collega Cabibo che sono dei numeri cioè noi nel momento in cui cerchiamo la semplificazione per approvare qualcosa ci avranno due consigli dell'UTI perché se non aggiungete nel primo le due votazioni con le maggioranze che il consigliere Cabibo ha detto prima dovete fare una seconda convocazione e trovare anche lì i compromessi con i comuni che vi diano il quorum per votare un piano del traffico una rotonda un qualcos'altro dimenticando poi le dottorazioni democratiche che i cittadini ci danno vero? io non so cosa direte nella prossima campagna naturale noi sì diremo che cercheremo di cambiare questa situazione qua noi sì potremmo dirlo perché prenderemo delle soluzioni questa sera che ci potranno mettere nella posizione di dirlo che noi non siamo d'accordo su questo attuto e cercheremo se vinciamo il comune capofila di modificare questo stato di cose ma proprio nel modo in cui ci siamo posti a voi e non siamo violenti vi abbiamo proposto degli studi fatti come avete sentito oggi dal collega Cabibo mica campati in aria mica sparati sul fatto della vogliamoci bene abbiamo detto quali sono i rischi i pericoli democratici e funzionali di questo statuto che veramente io non penso che sarà né economico e che non ci permetterà nemmeno di essere meno burocratici di oggi anzi complicheranno le situazioni per prendere qualsiasi decisione che riguarderà i nostri cittadini e quelli dell'Uti intera su questo noi avevamo dato un senso quando avete votato per l'Uti unica mi pare che è stato votato l'animità in questo consiglio comunale mi pare se non con qualche piccola diversità ma perché pensevamo che l'accorpamento è significato di risparmio mi pare che non facciano tre prefetture e cinque prefetture per ogni Uti anzi accorpano la prefettura di Pordenone e quella di Udine se allora l'accorpano dobbiamo dire a qualcuno che fa queste operazioni che forse è fuoristrada che forse accorpando e vuol dire far lievitare i costi essere più burocratici invece disgregando riduciamo i costi e siamo più democratici perché c'è un po' di confusione io mi rendo conto che dal livello centrale dello Stato a livello proprio comunale come siamo qua questa sera non c'è un obiettivo non si è capito un sistema un macro sistema funziona sempre se risparmiamo i costi accorpando risparmiamo i costi accorpando oppure accorpando oppure sopprimendo perché io sono anche d'accordo cioè se si elevava la provincia si rendeva il comune riferimento alla regione forse era meglio oppure se si promuoveva la fusione dei comuni come quello che si chiuderà in altre zone della regione vedrete quando dovranno essere soppresse alcune province nel prossimo anno vedrete che c'è già in modo per dire quella di Gorizia c'è già un lavorio un laboratorio sotto che preferiranno fare le fusioni che fare le UTI io ve lo dico perché partecipo all'UP e sull'UP si parla così i vostri che sono del periodo democratico non sono di centrodestra già si stanno adoperando per raggiungere quegli obiettivi piuttosto che le UTI e lo vedremo perché 2016 è dopodomani lo vedremo questo allora dico non non capisco il senato come sta succedendo si poteva sopprimere la provincia si poteva sopprimere ma sopprimere vuol dire prendere i dipendenti con la giusta dignità collocare nei comuni che ne hanno bisogno negli enti pubblici che sappiamo che ci sono molte posizioni sotto organico decidere cosa si fa sul palazzo della provincia che non sapete nemmeno quello ancora il palazzo della provincia è un palazzo importante non è mica una casetta da quattro stanze ed è costato ai cittadini soldi come il palazzo Badini ai cittadini questi qua sono costati dei soldi ma tanti e non possiamo mettere lì e fare l'archivio la sottoscala di tante cose perché sono soldi che avete speso in 15 anni dei cittadini di Pordenone ecco perché siamo un po' insicuri su questo perché non avete idee giuste non avete idee finite non avete un obiettivo non ce l'avete spiegato perché con Fiorfiori di professionisti l'analisi che ha fatto il collega Cabibo doveva essere fatto proprio da quei professionisti dirci le cose come sono no forse vediamo poi correggeremo poi vedremo ma vi sembrerà veramente semplice questo io penso che anche lei assessore nel suo nel suo io penso che si renderà conto che se Pordenone tentenderà i comuni della montagna sarà un sfacelo sarà un disastro su questo perché le distanze perché le culture perché è tutto diverso soprattutto quei comuni che sono vicini alla Carni al Friuli piuttosto che alla bassa Friulana sarà una diversità enorme su questo e non avete concesso nulla ora qualcuno ha detto qua fiume Veneto come fa rimanere fuori dall'ultimo noncello non lo so forse faceva comodo collocarlo lì come ha fatto comodo a questa amministrazione regionale spaccare il Friuli a livello verticale con Marano sotto Trieste Malborghese sotto Trieste perché lì non c'è un calcolo dignitario della popolazione calcolo matematico per nominare gli deputati punto cioè finalizzato non alla gente ma ai paletti politici questo è stato fatto e guardi che tutte queste azioni la gente non c'entra niente perché la gente oggi che soffre le famiglie che soffrono la mancanza di occupazione non parla nessuno di questo sì a livello nazionale fanno qualche provvedimento ma che soltanto il momento congiunturale dà segni positivi quando finisce avete visto già su Jobax basta se no diventa un sussidio basta finito facciamo questo da domani e vedrete da domani se l'occupazione aumenterà quando ci saranno più i benefit che vengono concessi oggi c'è proprio spot pubblicità spot elettorali questo viaggio a spot elettorali il fatto che noi in regione abbiamo la numero due del periodo democratico è evidente che questa azione calata nel Pordenonese in modo particolare è dovuta nella regione il segretario nazionale doveva dimostrare a qualcosa al segretario nazionale Renzi che oltre a essere il segretario del PD è anche il presidente del consiglio dei ministri doveva dimostrare che lei esiste allora ha fatto a fine giugno un laboratorio ma tutti sappiamo che il laboratorio questo qua che si fermerà al confine al confine perché l'Emilia Romagna che qualcuno portava prima assessore lei sull'onda dei risparmi è lontano da questo è lontano ha fatto qualche simplicazione di municipalizzata forse è meglio però se la funzionasse bene forse non avremmo ancora i terremotati nei containers sul terremoto ultimo capisce se le cose funzionano in quelle regioni che lei ha citato non avremmo le discrepanze che vediamo oggi costantemente nella stampa che abbiamo ancora gente nostra che vive nei containers capisce e stanno provvedendo da soli a fare le cose capisce allora per dire questo poi forse qui non si è capito colleghi consiglieri che la nostra dimostrata debolezza ha fatto sì che questa regione renda il laboratorio politico Pordenone perché vi ho già detto l'altra volta non comprendo perché tutte le calamità innaturali stanno cascando su Pordenone soppressione delle province creazione dei lutti soppressione della prefettura accorpamento del camere commercio tutto su Pordenone le altre province non sentiamo niente avete sentito per caso facciamo la fiera unica a Pordenone e leviamo Udine non mi pare avete sentito questo non mi pare eppure potrebbe essere una cosa per risparmio no cioè fare Pordenone fiera del Friuli e chiudere Udine ma non si dice questo si toglie tutto a Pordenone gli altri non si sente nulla si sente invece che molti molti primari vengono da Udine il Cro è un Udinese Pordenone noi non abbiamo teste pensanti qua non abbiamo medici in gamba in questo territorio abbiamo bisogno di importarli dall'estero dalle altre province perché noi chiamiamo ancora la provincia ieri hanno detto Sesto a Regana vince della provincia di Pordenone ieri ha vinto Sesto a Regana su una trasmissione televisiva provincia di Pordenone come la chiameranno ha vinto Sesto a Regana dell'Uti e qualcuno in Sicilia dirà cos'è sta Uti perché in Sicilia prima che arrivi l'Uti faremo molta strada noi prima che arrivi l'Uti in altri io non so come la chiameranno o continuano a chiamarla ancora provincia di Pordenone perché questo voglio vedere cosa succederà la provincia di Pordenone quando diranno Cordenone provincia dell'Uti noncello no provincia dell'Uti noncello ma speriamo di non avere posizione in campo internazionale perché altrimenti qualcuno potrebbe ridere di capire dove si trova non so Andres che non so come si chiamerà l'Uti di quella parte là cioè che situazione è in questa qui o chiameremo ancora provincia di Pordenone io penso chiameremo ancora provincia di Pordenone quando andremo a Roma e dirà dove siete io sono in Sacila provincia di Pordenone no Sacila scusami vieni qua che ti spiego perché noi del Friuli che siamo andati più bravi di tutti e voi siete fra cinque anni eh parlo fra cinque anni non oggi fra cinque anni spiegheremo al romano che noi in buona sostanza non siamo della provincia di Pordenone ma abbiamo fatto una cosa per risparmiare e di fatti non riusciremo a dire guarda però che in cinque anni abbiamo risparmiato dieci milioni perché abbiamo defluito alla nostra gente abbiamo fatto questa ottima operazione e i dieci milioni che abbiamo risparmiato li abbiamo dati a migliorare questo da noi non si pagano le tasse di questo servizio perché con gli utili abbiamo risparmiato faremo fatica a spiegare queste cose a un romano capito? ecco io per questo dico questa questo statuto questa legge regionale è stata fatta più che altro per una finalità della nostra presidente della vostra presidente che doveva portare in attesa di diventare ministro della repubblica perché tanto gli obiettivi tutti hanno delle aspettative evidentemente doveva pur fare qualcosa ed emergere l'unica cosa che ho e mi rammarico è che la vostra presidente va un giorno sì un giorno no a Roma e non si è preoccupata di andare dal ministro degli interni quando sapeva che doveva essere ridotte le prefetture e preventivamente doveva dire oh Alfa che fai mi cancelli la prefettura di Pordenone nel momento in cui ci sono ci sono colonne di clandestini o come si chiamava come abbiamo chiamato in provincia richiedenti asilo bravo richiedenti asilo colonne richiedenti asilo che stanno arrivando e trovano le confini sbarrati no noi ci prendiamo l'uso di togliere la prefettura di Pordenone che l'ente gestore l'ente che di fatti adesso che se l'hanno tolta pesa attenzione i nostri governi regionali perché se io fossi stato la numero due del PD vi assicuro che avrei fatto il diavolo a quattro prima che mi venisse cancellata visto che mi muovo dalla regione prima avrei fatto il diavolo a quattro perché una volta cancellata faremo fatica a spiegare a Belluno che la nostra viene ripristinata e quella di Belluno no e dunque sull'ordine del giorno provinciale è stato scritto mantenimento della prefettura e i servizi online cioè ci danno i servizi online caro Martino ci dico la prefettura va a Udine però se volete fare un'operazione magari facciamo un buono sconto dell'auto per andare a Udine oppure vi potete collegare col computer capito questo discorso qua senza pensare poi che questa soppressione delle province ha scatenato il fine del mondo ha fatto ha messo in condizioni critica tutti gli enti importantissimi per la nostra provincia importantissimi per la nostra provincia io avrei fatto più che altro la riforma delle municipalizzate GSM accorpata all'assessorato e scovasse l'altro assessorato cioè invece di avere questi enti con presidenti del visore dei conti contro del visore dei conti eccetera avrei portato l'assessore tutto quanto che con un funzionario e forse lo stesso apparato forse più ridotto poteva portare i stessi servizi alla città di Pordenone poi sarei andato a vedendo gli altri quello che facevano mi sarei inoltrato alla soppressione degli enti di carattere nazionale perché se non siamo degli sprovveduti sappiamo che togliere una prefettura da una provincia comportava una serie di soppressioni o riduzioni degli altri enti importanti che avevamo in questa provincia adesso sembra quasi che il PD sapete sta manovrando per dire oh non dice i cittadini che l'hanno tolta loro la prefettura fanno ordine del giorno e dice adesso con tutti i parlamentari con tutti i consigli regionali con tutti i sindaci ordine del giorno in provincia ci batteremo per la provincia per portare qui la prefettura ma chi volete prendere in giro la gente ma chi l'ha cancellata la prefettura di Portanone non mi volete mica Berlusconi spero perché sì ormai è passato perché forse qualcuno è colpa di Berlusconi che ha speso tanto ci sono i debiti perché siete bravi su queste cose la prefettura di Portanone l'ha chiusa il governo Renzi con la convivenza la connivenza della presidente Serracchiani perché lei non poteva non sapere che veniva chiusa la prefettura a Portanone non poteva non sapere il numero due del partito non poteva non sapere e adesso lo stesso PD si attiva con gli ordini del giorno per fare la grande riscosta di Portanone dicendo al cittadino noi cercheremo faremo vedremo eccetera è un giochetto questo soltanto forse per fare la campagna ma non è così io voglio chiudere perché l'intervento del collega Cabibbo per nome di Forza Italia e del collega Loperfido i miei fratelli d'Italia centrodestra mi avevano già soddisfatto una cosa però dico sindaco lei è un uomo pubblico quando lei diventa sindaco questa città quando è stato preso incaricato di fare sindaco di Portanone dai notabili del centro-sinistra di Portanone sapevamo che non aveva un grande personaggio un grande professionista nella sua azienda da cui proviene nella vita però fare politica e fare sindaco è comunque un apprendistato che lei ha iniziato perché non tutti nasciamo per fare i sindaci bisogna avere un po' di esperienza una volta si diceva partivi dalle parocchie e poi arrivavi in comune dunque la città di Portanone ha investito su di lei perché il suo apprendistato di fatti siamo a fine legislatura e ancora via Capocino non è stata fatta lo consideriamo un apprendistato questo perché mentre l'amico di Alzano Decimo ha fatto rotonde e Zoppolo ha fatto disastri in strada finendoli in tre mesi noi abbiamo ancora il collegamento con Corva che non si è ancora finito che ci costa due milioni in più abbiamo la via Capocino che non si è fatto nulla e la sua legislatura finisce cinque anni ma abbiamo investito allora quando si investe su una persona io sono un'impresa e prendo un apprendista che mi costa in produzione quando impara a lavorare lo faccio lavorare non lo licenzio lei invece no lei è stato licenziato io mi creda è stato licenziato e sai che in questi giorni mi sono fatto una ma perché io dico perché lei non è andato a trovare Di Blaso a New York se lei avesse fatto qualche viaggio in più in America lei questa ora sarebbe ancora sindaco perché sindaco di Roma anche quando non è invitato ci va ed è ancora sindaco lei doveva muoversi di più doveva andare a trovare l'amico Bill a New York come fa la Seracchiani perché lei presenta un ordine del giorno il nove ma la Seracchiani è a New York non so se lo sa glielo dico io la Seracchiani è a New York perché ormai questa è la strada non si va più a Roma a prendere bisogno del Papa ma si va a New York a prendere bisogno di Bill allora signor sindaco è ancora in tempo faccia un viaggio a New York e vedrai che lei verrà ricandidato sindaco grazie consigliere De Bortoli consigliere Dalmas prego tranquillizzo subito l'amico Tomasello che mi invitava mi invitava mi invitava no no ma dico sarò 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 come Bignami estremamente breve estremamente breve e ovviamente sarebbe il caso di che anch'io mi associassi mi associassi mi associassi come farò al a quello che ha detto il collega De Bortoli e cioè che le cose così non vanno non so lei sindaco se è contento prima l'ho sentita un po' stizzita rispetto a una provocazione che è stata fatta a inizio di questa seduta mi ha risposto insomma queste cose cosa c'entrano io al suo posto avrei fatto lo stesso modo rispetto a una domanda di un certo tipo avrei risposto lei è anche un signore lei è anche un signore da questo punto di vista però è un sindaco ancora in carica nonostante il suo partito non la voglia più forse commettendo anche un errore voglio essere estremamente gentile forse commettendo anche un errore perché vede il pedicini di turno è pronto a intervenire sul punto e poi ce lo dirà come intende cosa intende fare perché le intelligenze all'interno di questo consiglio comunale sono sempre attive sono trasversali e probabilmente visto che oggi impera o impera correggetemi il civismo è facile costruire delle liste che si apprestano ad uscire dal classico bipolarismo stantio pre e post berlusconiano che ormai ha fatto il suo tempo no? perché il problema oggi non è quello il problema è sei con Renzi o sei contro Renzi c'è un bipolarismo unico sei con Renzi o sei contro Renzi ma la stessa cosa la fa la Seracchiani che è il governatore del friù di Venezia Giulia eletta con poco più di mille voti di differenza legittimamente eletta ma che ha deciso che doveva avrebbe dovuto cambiare questa regione sta vendendo tutto nel silenzio assordante dei più sta vendendo tutto ciò che in un certo senso contribuiva al sistema regionale nessuno dice nulla se lo avesse fatto qualcun altro ci sarebbe ci sarebbero messe in moto non la procura della Corte dei Conti ma altre procure altre procure sì esatto e ha sostanzialmente indicato due elementi per il riordino la riforma sanitaria e la riforma dell'autonomia locale dimmi cosa devi dire perché è la seconda volta che mi interrompi e ti assumi una responsabilità non di poco conto perché un po' mi infastidisce questa cosa però lo fai tu quindi la accetto volentieri anzi ti cedo il mio tempo il mio tempo no ma insomma il tempo a disposizione allora questa noiosa introduzione per dire che cosa che purtroppo io mi sarei lei mi ha tradito dico tradito dal punto di vista politico perché aveva un'immagine diversa del suo mandato anche in un certo senso della sua persona dall'inizio di questa consigliatura ero convinto che avrebbe portato un qualcosa di nuovo in questa città frutto anche della sua esperienza maturata professionale eccetera per cui perché non darle credito e poi nei fatti invece nei fatti invece lei è stato il fedele esecutore di ciò che altri avevano deciso e di un qualcosa forse più grande che si muoveva da tempo bene inteso io queste cose le avevo percepite quando stavo in regione avevo capito che si ragionava così che si stava ragionando così perché le risorse si stavano restringendo e quindi la provincia di Pordenone incominciava ad essere già allora un territorio che doveva faticare per avere determinate cose pensammo di invertire la rotta con una serie di azioni poi siete arrivati voi e le avete cancellate in un sacco e riporto il diciamo la parola d'ordine che andava di moda qui negli anni 90 credo che si chiamava fare sistema non so se qualcuno se lo ricorda cos'era il fare sistema fare sistema il fare sistema che era come la parola d'ordine di un certo lobbismo d'antan che qualcuno si era inventato che reggeva bene e soprattutto ha favorito determinate importanti operazioni immobiliari immobiliari e si è fermato lì poi è arrivato il governo Seracchiani e guarda caso oggi la parola d'ordine è non dico fermare il declino perché mi richiama Oscar Giannino e questo sarebbe una capitis diminuzio nei vostri confronti ma si chiama perdita di ruolo e so che ci avete piegato un po' di tempo per trovare questo la perdita di ruolo l'ossessione costante di chi oggi governa la regione dalle posizioni di vice presidente della regione e che si accorge che deve affrontare le elezioni amministrative detronizzando un sindaco che ha fatto tutto quello che voleva ma nello stesso tempo deve affrontare una campagna comunale contro un comune sentire e i giornali ne hanno parlato per tempo che si chiama perdita di ruolo di Polderola quindi gli enti sappiamo tutti la questione della prefettura non c'è Alfano che tenga l'NCD che ha il coordinatore regionale amico di Alfano ci dica se ha risolto se ha risolto e al governo con voi in qualche modo se ha risolto il problema della prefettura no lo dica perché qui tutti intervengono ma i fatti sono altri quando noi vi abbiamo detto per tempo guardate che c'è una pericolosa deriva ci avete deriso rispetto alla deriva ci avete deriso perché questo è stato ci avete detto che dicevamo ma siete fuori dal mondo noi siamo coloro i quali costruiranno la città di centomila abitanti altra balla perché oggi abbiamo visto questa città di centomila abitanti la immaginate sulla carta ma infatti non ci sarà mai perché sappiamo benissimo che queste uti sono prive di un disegno finanziario l'ho spiegato l'altra volta lei sa benissimo che non esistono non esiste una normativa compiuta rispetto alla quale dal punto di vista finanziario si possa stabilire che cosa andrà dentro che cosa no anzi la stessa legge di riforma del sistema di finanza locale della regione Fiumenza Giulia fatta lo scorso anno ha detto che per 5 anni si andrà avanti col vecchio sistema il fondo per equativo non ci sarà queste sono le cose state raccontando delle balle gigantesche perché le balle gigantesche se le inventate il governo dal governo di questa regione incominciando la riforma della sanità avete raccontato balle gigantesche su Pordenone dicendo che Pordenone era hub ma abbiamo scoperto che Pordenone è hub di se stesso non è hub nemmeno all'interno del territorio provinciale lei signor sindaco si era impegnato in un ordine del giorno proprio su questo le ricordo in occasione dell'approvazione della delibera della giunta regionale su strutture e funzioni a sorvegliare affinché non fossero ridimensionati il ruolo in sanità del Fiumenza Giulia il risultato è stato che con la delibera sulle strutture abbiamo perso il 30% delle strutture di Aosma e il 50% in tre anni delle strutture del Cro con l'unificazione praticamente lo schiacciamento del Cro nell'area Pordenonese questo è stato il risultato non parlo dell'ospedale che sarà pronto nel 2025 se no una colata di cemento l'esatto contrario di ciò che avevate in mente una colata di cemento chi percorrerà quando ci sarà se ci sarà con i 50 milioni di euro che mancano sfido chiunque a considerare questa un'opera non solo incompiuta impossibile inutile deleteria e soprattutto frutto di una precisa responsabilità vostra di una scelta miope perché miope è stato il vostro mandato e proprio ieri il Movimento 5 Stelle ha fatto un intervento assolutamente condivisibile puntuale non si tratta di sulla questione dei primari e della sanità di agitare una territorialità fuori luogo non è questo il punto il punto è che guarda caso su tutte queste cose alla fine prevale l'udinese di turno è una coincidenza o il fatto che noi siamo diventati l'ospedale di Poldanone è diventato un'area di di scarica nel peggiore dei casi di parcheggio e di sosta temporanea nel migliore dei casi penso a chi potrà diventare il chirurgo anche nel migliore dei casi allora in questo quadro il Movimento 5 Stelle ha ragione e lo ribadisco perché ha fatto un intervento che finalmente devo dire condivisibile c'è attenzione si stanno affinando le cose vere di questa città e sono queste non perché dobbiamo difendere Tizio perché qui è nato e così deve restare nemmeno i padani lo farebbero non è questo il punto qui non c'è la piccola patria contro la civilizzazione ma la vostra idea di civilizzazione è contraria perché non è contraria sostanzialmente è incompiuta è incompleta è imprecisa come la riforma delle uti assolutamente imprecisa priva di fondamento economico e finanziario non è definito nessun elemento attraverso i quali si possa dire che ci sarà da qui a due tre anni un effettivo risparmio perché voi stessi lo dite voi stessi lo dite lo dite nelle norme ultima questione della sanità lo dico l'amico franchin mi pare che stiano togliendo tutte le convenzioni con l'università di Trieste in quarta caso stanno facendo in Aosma tutte le convenzioni con l'università di Udine e allora e dico questo perché è assolutamente vero che gli effetti del governo Seracchiani sono non più il problema del fare sistema certamente ma di un ruolo che abbiamo perso perché funzionale ad altra parte del territorio di questa regione noi siamo stati verremo udinesizzati in modo brutale in modo brutale perché non ci sono altri spazi e io capisco che lei ha bisogno perché il vice presidente di questa regione che ha responsabilità maggiori delle sue in questa vicenda sono tutte responsabilità politiche non ci si candida a rappresentare la destra con il mandato elettorale potente che aveva la destra tagliamento e da avere questi risultati del tagliamento e da avere questi risultati i risultati sono che praticamente siete costretti ad organizzare gli stati generali del territorio perché non sapete come uscirne oggi cercate la condivisione di tutti ma noi non abbiamo condiviso nessuna delle vostre scelte per le ragioni che abbiamo spiegato incominciando dalle UTI per le ragioni che sono state dette qui dai miei colleghi egregiamente prima anche nei giorni nell'altra seduta di consiglio e così in tutte le altre vicende ecco che verrebbe da dire che chi è stato la causa del problema della perdita di ruolo cioè voi cioè lei e cioè qualcun altro che oggi sta nella giunta regionale vuole e pretende di essere al contempo la soluzione del problema ma potrei anche dire che la questione non si limita soltanto alle parti politiche che ho indicato ma probabilmente investe anche una riflessione più generale su questa città che è stata governata per oltre 15 anni da un preciso blocco di potere che oggi qualcuno pensa di riproporre allo stesso modo io spero che da fuori questo consiglio comunale perché ormai questo è un consiglio comunale che si sta esaurendo avrà pochissimi argomenti da svolgere spero che da fuori nasca una spinta vera e autentica al cambiamento spero ci sia e lo dico anche rischiando la rappresentanza della mia parte politica perché sono convinto che siamo davanti a persone senza una visione politica precisa e sottomesse ad un disegno chiarissimo che è quello del di ciò che rimane non del giorno ma del fiore di Venezia Giulia dove Bordenone non può avere questo ruolo anche se continua ad essere al centro del PIL nella produzione industriale perché siamo ancora la provincia che fa i numeri più alti però siamo completamente esautorati dalla nostra rappresentanza politica ed istituzionale quindi lei signor sindaco a mio avviso non è titolato potrei essere d'accordo con lei solo se davanti ad un gesto vero politico cosa le rimane in fine conti il suo partito l'ha rinegata politicamente intendo e anche ingratamente se esiste questo termine e ha davanti a sé la prospettiva di celebrare da presidente della provincia gli stati generali del territorio quando ormai tutti i buoi sono scappati e magari presentando un generico documento alla Lady di Ferro del PD la rappresentante degli ignazio marinismo come l'ha definita il foglio cioè quella che piace tanto al gruppo editoriale Repubblica L'Espresso quella per cui siamo noi che diciamo chi sono gli intelligenti degli altri perché questo è il metodo questa è la presunzione culturale che ha costituito e costituisce la chiave portante del pensiero di quella sinistra che ben inteso qualche sfumatura diversa ce l'ha rispetto al Renzi presidente del Consiglio ecco signor sindaco io credo che lei dovrebbe riflettere seriamente e sarebbe il caso di incominciare a rappresentare veramente questo territorio lasciamo pur da parte i fatti quello che è accaduto rispetto alle scelte contingenti sulla sanità piuttosto che sul piano della mobilità cioè sulle non scelte piuttosto che sul piano regolatore sulle non scelte anche del piano regolatore assessore ma che cosa pensa di aver prodotto lei avete solo messo insieme quattro concetti per cui era bello dire non si occupa suolo tutte queste cose le sapevamo benissimo tutti quanti queste cose e non c'era nessun bisogno per quando non c'è crescita economica non c'è niente da regolare non c'è niente da regolare avete spercato denaro pubblico per fare piani come quello sulla mobilità per pagare consulenze questo è il problema ecco allora lei si sentite che deve fare una cosa a mio avviso avrebbe tutto non solo appoggio politico ma anche morale che in questi tempi mi creda ha più senso di molte cose e cioè fare un qualcosa che abbia veramente un senso rimetta il mandato lasci perdere cioè dichiari la sua nausea rispetto a questa politica a questa inconcludenza a questa incompletezza a questa incompiutezza dichiari che non ce la fa e saremo tutti con lei perché deve combattere contro un sistema più forte del suo che l'ha costretta obbligata a fare queste scelte questo è il punto questa submission alla quale lei è stato sottoposto in cinque anni le impone di avere un gesto di chiarezza non tanto rispetto a noi consiglieri quanto rispetto alla città nel suo complesso faccia saltare questi stati generali dia le dimissioni venga un commissario sia chiaro a tutti cosa vuole la Seracchiani per il Friuli Venezia Giulia anzi cosa vuole per la provincia di Pordenone cioè il riacquisire uno spazio rispetto ad Udino tutto qui questo è il tema vero noi potremmo stare anche lì dentro ma non credo che sia coerente con la storia di questa città con la storia dei professionisti che ci sono stati degli operatori degli operai degli industriali delle categorie economiche che hanno sempre lavorato in questa direzione rifletta su questo è un consiglio spassionato mi creda spassionato che le do e forse potremmo anche pensare che il Pedrotti sindaco ha un valore uno spessore politico diciamo fino ad ora impensabile grazie consigliere consigliere franchin prego grazie 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 presidente io mi ritrovo a riparlare del motivo per cui siamo a cuoche stasera e cioè il motivo per cui il gruppo di cui faccio parte pensa di dover sostenere questa delibera e quindi partirò velocemente a dire per quale motivo io mi ritengo rappresentato da questa da questa da questa tecnica di legislatura diciamo allora siamo partiti dalla 142 del 1990 che di fatto diceva disciplinava le unioni come strumenti associativi esclusivamente finalizzati alla creazione delle condizioni necessarie a procedere successivamente alla fusione dei comuni cioè nel 1990 il legislatore il governo 90 se non ricordo male era Andreotti quindi assolutamente non penso che si possa pensare cioè al di là dell'ideologia insomma c'era una visione la visione era che c'era una necessità di immaginare del futuro come aggregazione di comuni unioni che erano finalizzate la fusione allora 25 anni fa la visione era effettivamente avanguardia insomma nel senso che evidentemente la popolazione non era così preparata a percepire questa sfida al punto che nel 99 il governo se non ricordo male D'Alema rivede la legge e con la 265 divide le due cose cioè le unioni dalle fusioni anche perché è stato un fallimento di fatto pochissimi comuni avevano raggiunto la fusione ma da allora cosa è successo è successo che il territorio cambia cambia e direi che mette al primo posto nella scala della rappresentanza il servizio della persona cioè il terziario il nostro territorio fa parte di questi cambiamenti cambia dal manufatturiero che perde di assoluta predominanza e alza invece la necessità che ci sia un terziario un servizio rivolto ai bisogni delle persone di qualità e cosa succede? Succede che le famiglie decidano di scegliere dentro un territorio più vasto della propria città della città o del paese dove abitano scegliere i servizi più adatti alle proprie esigenze e cioè decide di andare a partorire nell'ospedale che dà più garanzie decide di portare i figli di asilo unido perché o per un motivo semplicemente di orario o per il servizio o per la qualità didattica di formazione assicura più qualità e quindi vede già proprio facendo un'aspetto di escurso di quella che è la vita di una persona vede necessità legate ai bisogni e le migliori risposte ma non in un ambito di paese o di cittadina piccola neanche di città come la nostra è un ambito più vasto e dentro questa cosa la scuola è quella che interpreta meglio questa esigenza perché di fatto distribuisce nel territorio istituti superiori in base a quello che quel territorio richiede e andando avanti la sanità visto che di questo si è parlato molto stasera io vorrei solo spendere una parola sulla sanità perché la sanità non è secondo me una di quelle cose che assume qualità perché qualsiasi potere centrale o regionale dà questa qualità la sanità secondo me è un insieme di servizi e di operatori che sono in grado di offrire a una determinata zona o area molto allargata una qualità superiore e in questo si viene identificata come qualità eccellente cioè voglio dire quando io ero giovane ancora si pensava di chiudere l'ospedale di Maniago insomma siamo ancora lì sono passati tanti anni piano piano andando in decadenza ma di fatto quando io ho un paziente da ricoverare difficilmente si pone lui l'obiettivo di andare a Maniago perché lì c'è un livello di assistenza che offre un livello ma se noi dobbiamo pensare che il livello sia più alto si riferisce sicuramente alla struttura che è più grande che è più in grado di offrire multidisciplinarietà un approccio multitecnico anche alla situazione ecco io penso siamo arrivati alla sanità e c'è il tema successivo è quello della gestione dei nostri anziani i nostri anziani hanno una gestione sul territorio che in qualche modo vede la partecipazione di tutto il territorio non può essere una città che gestisce il problema dell'anziano attraverso RSA case di riposo lungodegenza hospice è un problema talmente complesso che richiede una complessità anche di partecipazione del territorio e infine un problema che sta emergendo e che diventerà di straordinaria importanza non solo per questo territorio ma penso per tutta la nazione è la gestione dell'immigrazione allora al di là di quello che ognuno di noi pensa o ideologicamente propone noi sappiamo che la nostra Europa avrà bisogno nei prossimi 30 anni grossomodo di circa 40 milioni di persone in più per riuscire a gestire il welfare che abbiamo messo in piedi il sistema pensionistico il sistema di gestione della nostra società insomma quindi solo cogliendo quello che dice Salvini o il presidente di Medici senza frontiere quindi i due opposti insomma le nostre società devono essere in grado di gestire questo passaggio attraverso un'organizzazione una programmazione delle entrate una sicurezza delle entrate no? E quale sarà il paese la città singola in grado di fare questo passaggio? Io penso che sarà difficilissimo se non in una visione di area più vasta possibile allora per noi l'Uti in questo momento rappresenta unicamente un passaggio necessario è il passaggio che in qualche modo raccoglie quello che la cittadinanza ci dice abbiamo bisogno di servizi di qualità non divisi per città o paese ma in un'area ma in una visione più complessiva allora io questo intendo come partecipazione io penso che la politica questo debba fare debba cogliere i bisogni della popolazione espressi chiaramente in scelte quotidiane trasformarle in un sistema di gestione di regole di amministrazione e trasferire il territorio al massimo dell'efficienza e dell'efficacia questo secondo me è partecipazione alla politica e questo è quello che la politica deve fare al meglio ora io ho colto le criticità tecniche della legge penso che l'opposizione l'abbia espressa in maniera molto esaudiente e penso che dovremmo riflettere su questa cosa se ci sono delle verità ma sul contenuto su quello che è lo spirito di questa cosa io mi trovo assolutamente d'accordo e quindi quello che penso è che quando si parla di democrazia non rappresentativa perché questo significa un utile di secondo livello eccetera di fatto si pone il problema di dire il comune deve essere unico cioè la cittadinanza deve poter votare i rappresentanti e questo è sacrosanto ma in una visione molto più vasta della città o del paese e in questa cosa noi ci troviamo assolutamente d'accordo e convinti quindi non abbiamo nessun ripensamento su questa cosa pensiamo che la strada imboccata sia quella giusta pensiamo che il cogliere quello che i cittadini che in qualche modo ci eleggono a gestire a regolamentare i processi riconosceranno nella nostra capacità di allargare la visione di governance sia per noi vincente cioè non vincente perché vinceremo le elezioni ma perché vincente perché siamo amministratori in grado di capire quello che il territorio chiede a noi e lo chiede attraverso le scelte quotidiane per cui detto questo penso che dovendo fare una piccola valutazione sui vantaggi e gli svantaggi i vantaggi sono nettamente superiori i vantaggi sono messi in rete delle risorse umane finanziarie e strumentali mettere il livello qualitativo del territorio e l'omogeneità dell'offerta dei servizi uguale per tutti i cittadini cioè come è possibile che un abitante di Pordenone abbia un servizio sugli asini nido dico a caso diverso rispetto agli abitanti di Ruovaredo di San Quirino è nostro obiettivo primario dare un'omogeneità del servizio assicurare a tutti i cittadini di avere un livello uguale e alto di servizio quindi abbiamo visto che è a vantaggio della unione e della fusione la strategia di programmazione sviluppo territoriale e urbanistico questo l'hanno detto un po' tutti e per contro abbiamo visto che uno dei motivi che vengono in qualche modo più sostenuti contro l'Uti e la fusione è la perdita di identità allora sulla perdita di identità penso che valga la pena dire cosa intendiamo cioè quando io ero molto piccolo andavo a Cordenone sulla domenica e a Cordenone si parlava una lingua diversa si aveva un'organizzazione sociale diversa l'economia era diversa ma qua siamo 45 anni fa attualmente non esiste più questa cosa le famiglie di Cordenone vengono a lavorare a Cordenone portano i bambini come diceva il sindaco la volta scorsa io sono perfettamente d'accordo a noi viene chiesto di interpretare questo bisogno e di rendere efficiente quello che forniamo di servizio basta per cui io sono convinto che rispetto alla perdita le sagre il campanile la lingua avranno un mantenimento se la comunità è in grado di mantenerla ma quello che ci viene richiesto è offrire omogeneità di servizi alla nostra cittadinanza quindi interpretare quello che ci viene dato come segnale e trasformarlo in legislazione per cui la nostra la nostra posizione è assolutamente favorevole voteremo a favore grazie grazie consigliere consigliere Daniello sì grazie allora inizio con il presentare l'ordine del giorno presidente che avevamo presentato con i colleghi del Ben e Pietro Polli lo scorso consiglio comunale l'ha già fatto girare? no? ok chiedendo il nostro ordine del giorno verteva su due richieste da presentare alla prossima assemblea dei sindaci una all'articolo 7 della bozza di statuto che venga aggiunta alla lettera B del punto 1 dopo legge regionale numero 6 del 2006 dopo la legge regionale come disciplinato dalla legge 11 agosto 2014 sia salvaguardata e promossa l'attività delle pari opportunità sul territorio e qui sta l'ordine della motivazione proprio la regolamentazione sulla legge e la disciplina della legge 11 e al titolo terzo articolo 20 punto 4 venga tolta la frase procedimenti aspetti che le dico bene qui è un titolo terzo no titolo terzo titolo 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 terzo articolo 20 qua quella che parla della partecipazione popolare no? che si è confusa con con un altro con un altro termine quindi venga tolto procedimento amministrativo i procedimenti amministrativi che li riguarda e con la sostituzione della parola l'incentivazione delle forme mi segue o devo ripetere ah l'incentivazione delle forme e con il coinvolgimento delle realtà associative questi sono i due nostri punti che poniamo all'ordine del giorno perché vengono discussi alla prima riunione dei sindaci all'assemblea dei sindaci delle UTI allora inizio poi ad esaminare la mia le mie valutazioni che ho fatto per questa delibera sullo statuto delle UTI allora inizio col dire che in questa primavera io e il collega della Lega Piccinato eravamo gli unici a votare contro all'UTI unica e io per un motivo il collega era al polo opposto ma io l'ho fatto semplicemente perché credevo che le UTI rappresentassero un progetto ambizioso a lungo respiro e volessero dare appunto con la rappresentazione di queste cinque UTI rispondessero a delle esigenze territoriali e a logiche identitarie per cui un'UTI unica rappresentava invece un sostituto lessicale della provincia cosa che il legislatore non voleva e passo poi ad una argomentazione politica Assessore Mazzer lei l'altro consiglio ha detto eh sì abbiamo copiato questo statuto a volte si copia perché insomma ci pareva normale corretto copiare da un altro statuto eccetera perché insomma questa legge questa proposta ci è calata dal cielo l'abbiamo subita anche noi beh insomma subita anche noi io spero che lei abbia letto un po' le argomentazioni e il programma della Seracchiani perché io l'ho votata la Seracchiani ma nella nel programma della Seracchiani c'è proprio scritto proprio questo rinuovo ridisegno della della regione come? siete vincolati sì perché dovete dare l'ok adesso come non siete vincolati al programma Seracchiani io l'ho votata ma perché voleva voleva cambiare la regione no? e io ho dato fiducia a questo tipo di cambiamento ma il perché sia arrivati alla legge 26 lo dice proprio in un passaggio esigenze di operare esigenza di operare concreti risparmi di spesa riforma della regione che si basi su due pilastri la regione e il comune cancellando quindi la provincia per semplificare la macchina amministrativa lei ogni tanto mi sballordisce Mazzer veramente sono stere fatta come? eh sì ho capito che piace pensare ma se pensate se lei pensasse con la sua testa forse qualche dubbio sulle uti l'avrebbe espresso forse qualche cifra l'avrebbe detta l'altra l'altra consiglio comunale o forse è l'espressione appunto della perplessità che lei ha sulle uti allora adesso riesco a capire un po' i dati le motivazioni sottostanti ai vari progetti legislativi di abolizione superamento riordino delle province promosse negli ultimi anni a livello centrale per ottenere maggiore efficienza risparmio della spesa pubblica semplificazione amministrativa possono essere agevolmente confutate se si osservano e l'ha detto pure ieri la giornalista su Rai 3 i più elementari dati di bilancio di finanza pubblica tra il 2008 e il 2013 la spesa corrente delle province si è contratta del 14,6% ed emerge invece la che a contrazione della spesa abbia prodotto invece aumenti tangibili della spesa sulle regioni e dello Stato centrale chiaramente i comuni invece è rimasta la spesa dei comuni è rimasta quasi inalterata ma perché? perché a fronte di minori entrate chiaramente questo è anche un effetto della legge del Rio che ha tagliato i finanziamenti a tutti gli enti e quando si taglia così indiscriminatamente chiaramente non si fa non si ha una grande visione si vuole tagliare e basta senza produrre e verificare poi gli effetti sui territori si fa il deserto quindi lo spazzare via la provincia di Pordenone insomma io credo che non avesse un mero obiettivo di risparmio c'è qualcos'altro sotto che non riesco ancora a capire forse perché io non sono molto dentro agli affari dell'alta politica quindi Assessore Mazzer lei sa bene che con le UTI non andremo assolutamente a risparmiare forse per questo non ha risposto alle varie spese alle varie richieste di semplificare di esemplificare i costi dell'UTI non ha risposto quanto costerà ai cittadini di Pordenone la spesa dell'UTI e secondo me questa UTI vista oggi dopo le varie critiche che non è solo il comune di Pordenone o la minoranza del comune di Pordenone che stanno denunciando certe nefandezze di queste UTI in provincia di Udine stanno saltando vari comuni perché faccio un esempio il vice sindaco PD di Fiumicello si è dimesso dopo la votazione delle UTI perché non era più in linea con quello che dettava il no no dettava l'UTI non era non era d'accordo sull'UTI la sera chi ha porco cane allora proprio te ma non è solo il comune di Fiumicello perché è piccolissimo il comune di Fiumicello sta veramente creando dei grossi problemi soprattutto a Udine e non credo perché la provincia di Udine è di colore opposto alla regione perché negli stessi comuni ad orientamento di centro sinistra come si usa dire adesso dubito che sia proprio di sinistra ma insomma lasciamo perdere le minuzie e sta creando dei problemi di identità di conformità ad un ad un rispetto di quello che era il mandato da parte dei cittadini nei vari consigli comunali non tanto perché la Seracchiani ha detto obbedite questo era lo stesso discorso che mi che le dicevo prima a lei in particolare le Uti sono fumose e la rappresentazione delle Uti che abbiamo avuto nello scorso consiglio è fumosa non è chiara ma perché è nata così perché non c'è una chiarezza io ho voluto anche vedere una una svolta di rivoluzione dell'andamento amministrativo con le Uti e non riesco proprio a scorgerlo questa cosa a regime c'è scritto nella legge 26 attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzative la programmazione dei fabbisogni devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa il legislatore intelligentemente ha messo le mani avanti non importa che le Uti funzionino e funzionino bene basta il punto cardine di questa cosa è il risparmio e questa cosa me l'ha insegnata un un amico no presidente di provincia Gerghetta e me l'ha passata proprio pari pari come glielo ho detta io e le Uti anche se funzioneranno male l'importante sarà che abbiano apportato un risparmio e sa a che cosa risparmieremo su che cosa risparmieremo sulle risposte che daremo in modo efficace ai bisogni dei cittadini vi rò di più l'articolo 5 sempre Gerghetta che mi insegna questo in uno dei tanti incontri della legge 26 pone un'altra clausola di salvaguardia e recita ove alla scadenza del primo triennio della Costituzione non sia comprovato da parte dell'Uti il conseguimento di significativi risparmi e livelli di efficacia e di efficienza la Regione come diceva prima il collega Cabibbo è autorizzato ad applicare penalizzazione perché è stata fatta questa scelta allora me lo sono chiesto perché e non sono riuscita ancora a capire perché perché proprio nelle Uti e non si verifica invece tutto ciò che è passato tutte le funzioni che passeranno alla Regione e quindi non riesco a capire la motivazione effettiva di questo di questa fra virgolette clausola un'altra cosa che mi è mi ha destato un po' mi ha incuriosito è che la Regione di fatto è un ente di legislazione di programmazione non comprendo quindi l'opportunità e l'utilità di attribuirle 50 altre funzioni amministrative la cosa più interessante sta nell'allegato C e che è una una cosa che mi interessa particolarmente perché individua le funzioni provinciali con un effetto dal primo luglio quelle che passeranno poi al primo luglio 2016 che sono già passate con il primo luglio 2016 e verranno in capo alle Uti che sono competenze legate alla integrazione e alle politiche sociali in particolare l'accoglimento dei minori questo comune qui mi dispiace che non c'è più l'abbonato ma io e l'abbonato ci siamo parecchie volte rivolte all'assessore Romor perché identificasse un luogo dove fare riferimento con i nostri minori che non sono dietro l'angolo i nostri minori della provincia di Pordenone e dell'ambito in particolare ma sono dislocati in strutture oltre i 500 700 chilometri da qui 500 sicuri eh eh sì in Toscana eh certo ma perché non c'è perché non c'è nella provincia di Pordenone non c'è una struttura che le accoglie non tutti non tutti perché alcune eh avessimo avuto una struttura eh e una rete per eh e avremmo risparmiato e avremmo risparmiato e guarda caso eh il questo piano di rientro di alcuni minori che non sono spostati solo perché il giudice obbliga la lontananza dalla famiglia sono d'accordo sindaco ma perché non abbiamo una struttura che li accoglie e non sono pochi i ragazzi fuori comune eh sì fuori regione scusi eh costano assai alle politiche sociali in termine di personale e di costo chiaramente eh quotidiano vabbè eh l'assessore non c'è allora l'ultima cosa che grida vendetta a mio modo di vedere è la partecipazione democratica eh al di là che venga confusa con l'accesso agli atti eh in questo frangente ma ne ho parlato anche con gli altri sindaci è stata una svista veloce di eh senza guardare alcuni passaggi ma eh la perplessità è anche sul voto ponderale eh e eh quello che viene meno è la partecipazione e l'elezione diretta da parte dei eh cittadini a questa UTI perché eh saranno gli amministratori che si voteranno giusto? eh lo so che nelle corde del PD a centrare tutto in un'unica persona e in un unico eh polo ma eh secondo me eh viene meno eh la partecipazione democratica e allontaneremo sempre più i cittadini da quello che sono da quello che è l'accesso proprio alla eh partecipazione alla vita politica e alla responsabilità di dare un voto eh perché eh ci si rende ci si sente comunità di quel eh di quel comune di quella e partecipe eh responsabilmente di quello che si è votato e di quello che viene rappresentato poi eh devo ancora pensare cosa votare mh devo ancora pensare se astenermi o votare contrariamente eh e quindi nel corso del consiglio farò una grazie grazie consigliera consigliere Giannelli prego grazie grazie Grazie. 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 Noi, Signore, noi, il prossimo anno, quando vinceremo l'edizione, lo faremo perché dimostreremo e finalmente avrete il peso che ci nienta. E cioè non avremo nessuno che al piano rivolatore farei una battaglia perché si possa andare in ragione al piano rivolatore, ce lo cuciniamo noi. Non è una ragione adesso un'osservazione di incontri, no. Esiste una situazione durante la quale un comune nel primo anno rimandato nel sindaco inizia una battaglia per rendersi autonomo dalla ragione. Io ho fatto il caso del primo anno, autonomi, in questione di abilità. Non mi spiegate perché vita è poco a poco, perché la circondazione sul mio è rimasta ferma un panoramico perché un sereo di Monesio a Trieste ha stabilito che quello del reno non accaddeva il sereo di Monesio. Basta anche con la sovrapportunità. Noi abbiamo incontri, teste, membri che possono tranquillamente fare le funzioni che oggi fanno sovrapportunità. Mi spiegate perché per costruire un piccolo edificio in parte non ha detto io che non andrò in regione a prendere il panere a piedi. Come se noi non avessimo qualche funzionario, qualche architetto, qualche sondra, indiravamo di fare e dire le stesse cose che dicono. Noi andiamo a prendere se ci possono trovare il progetto. Dobbiamo tornare all'autonomia dei comuni rispetto alla regione, sia in campo del palestino, sia in campo del palestino, sia in campo della sovrapportunità. E questo è uno dei primi passi che serve a dimostrare quanto i cittadini hanno in ottimo l'aumento dell'evoluzione. Noi ci siamo molti mesi di lavoro, ci siamo tre stimolizzati, e tutto questo è gratis. Assessore, lei capisce che non contiamo niente. Io ho fatto un esempio di una piccola copertura, che è stato un uomo, un uomo, un uomo, un uomo. Presidente, potremmo dire prima usato per te, morevoli, che se continuiamo a scuartere la testa, davanti alla assoluta incapacità di copertura, che poi non ci trova bene, perché è stato meno a credere. Lo stesso sindaco. Io, prima, c'era il crescimento del passio. Io non l'ho mai visto convinto. La vita, non aveva mai fatto un cielo, un intervento. Non ho visto che questo... No, all'altra spagliavano, effettivamente. assolutamente e io voglio perché si non è come ti voglio dire che non è bene perché non è bene non è che sarebbe a fare un ragionamento e portarlo a te dire se vede spagnosti quando hanno morato non è che ci sono Ci sono tanti che sono così, anche nel nostro colore, che non lo vogliono risolvere. Noi non ridoteremo questa verità, perché noi cominciamo a chiedere di formare al tono. Allora avremo un controllo, uno spesso. Scusi, lei non è stato un clavo di riluci, quanto costa questo apparato? È un apparato. L'ultimo è un apparato. Leggete l'inizio. Le funzioni comuni, rovi e l'ultimo, sono fissime. Sì. 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 No si mette la fascia del colore. Sì. Sì. Si mette la fascia del colore. Il Presidente del Consiglio si mette la fascia che rappresenta con lui. Così come a flash in nero agli uomini degli Stati Uniti, bene ci sarebbe stato il Presidente della Repubblica, non di trombone di nero, che il Presidente di Cali non avessi una partita di nero, con la nostra verità. Il Presidente del Consiglio si mette un capo settore, il capo di tutti i settori. Noi toglieremo la vacanzia, noi regoleremo questo aspetto di manifestazione dei rappresentanti perché il bello sindaco è un amministratore, non è un politico. Svestiamo il sindaco dal campo politico, dalle ideologie, dalle appartenenze partite. E' un bravo amministratore, uno che sa per i conti, che sa come funzionano le cose. Ecco, questo è un bravo amministratore. Grazie. 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 e i miei studenti vengono le azioni all'università e non a presto, però tu sei un daco, mi fai 30% di sconto sulla certa riflessione. I studenti, i studenti, i studenti vengono a studiare la vita per 300% di sconto. Questi sono i comandamenti che noi dobbiamo fare con la vita, che non potremo fare con la vita, che non potremo fare con la vita. Perchè non passa nulla? No, non passa nulla. C'è una sola responsabilità. E nella provincia, in polemà, gran parte del comune della provincia si sente privata. Non potremo sfido, non potremo manesse a sentire si fulgando, di n'altra parte. Noi siamo uniti. La storia ce l'ha detto. Andatevi a guardare la storia della nostra città. Davanti a questo comune, davanti a questa inquadificabile libera, cioè inquadificabile libera, perché si riferisce a un nostro appunto, a scuola diventano i ricerciti, anzi non solo. Inclassificabile. Inclassificabile la scuola, il tribunale, il viceversario. Inclassificabile. E' come se nasse un progetto all'ufficio tecnico, senza di taure, senza di lavorare. E' una vergogna. Comune. E' come se. e quando un articolo moro dice tutto il compagno di tutto, ma se un ragazzo non è benvenuto, scrivono per le genere, perché ciò che si vissi da un uomo, o che si vissi da un uomo e un uomo. Davanti a questa sveglianza io risolvo gli amici del centro di un'estate a spegnerci dal voto, cioè non partecipare alla votazione. Perché votare è una cosa del genere, anche con il voto, vuol dire sì, non considerata, anzi ci sono diventamenti, diventamenti per l'obietà di teleginecologico, ma non hanno senso. Parlando del senso di amico, cioè c'è l'obietà di teleginecologico, se poi non è giusto, ci sono dei passaggi. I teleginecologico è creato un prudente nel primo anno di gioventudenti come fa, visto che le leggi dovrebbero scrivere gli avvocati. Per cui, io ho visto che il signor di Napoli era, probabilmente, poi nella prega non è giusto, però poi si dimentica la mia e il prade, e vedete che non partecipare alla votazione. Perché non ho visto, convinto, adesso che finalmente è libero dal giorno del pd, questo signore, per la bianca, questo personaggio serpatico, un grande centenere, oggi, mi spingolato per questo giorno, ma anche io ho detto, se ancora in tempo, se ancora in tempo, i vostri figli, i vostri, vi valideranno su questa cosa, e noi, io ho detto, non lo capisco. Noi non lo capisco. Grazie, consigliere. Consigliere Piccinato, prego. I giornali sono diversi. Grazie, Presidente. Stasera siamo qui, un po' così, di nuovo riuniti, per discutere ancora di questa porcata. Io... Beh, sì, io dico semplicemente quello che penso, è che gli atti dicono... Chi è che ha fatto il governo con Berlusconi l'ultima volta? No, dimmelo. Hai svegliato dal santo. No, no, Mafia Capitale, capisco, è una cosa della Lega, che hanno fatto la Lega, sono tutti della Lega, lì, vabbè, non importa. Ok, allora... Ritorniamo al punto, senza che magari qualcuno interrompa, perché magari è la coda di paglia. Allora, dicevo, che quando io da giovane immagino il futuro della mia città, da giovane, quando io immagino il futuro della mia città, immagino una città che possa dare prospettiva, immagino una città che dia futuro ai propri ragazzi, che dia futuro ai propri figli, ai propri nipoti, alle future generazioni. E quando io penso anche al sistema amministrativo del futuro, immagino qualcosa che possa continuare a garantire una rappresentanza politica effettiva e una vicinanza alla gente. Però, questa immaginazione viene improvvisamente bloccata da questo tipo di cose che vengono immaginate da qualcun altro, ma che in realtà tolgono l'immaginazione. Queste uti sono una formazione che è davvero arzigogolata e fantasiosa, che però, appunto, ricadono nella complessità della programmazione politica in maniera pesante. E l'unico effetto che hanno è quello di rendere più complicato il sistema della macchina politica e meno accessibile al cittadino. Oltre che farlo pagare di più, ma se farlo pagare di più significa avere più qualità, uno dice, boh, un pensiero positivo posso anche verlo. Non è così, non è questo il caso. Non è questo il caso e lo sappiamo tutti. Perché quando ci si immagina anche un paese che cresca, che debba, non parlo di una città piccola, parlo dell'intero paese, tutto lo stivale, ma anche vale per qualsiasi tipo di paese, immagino anche un luogo dove si possa crescere politicamente, e che la gente riesca a crescere politicamente le persone per vari step, per prepararli poi ad amministrare il paese. Pian piano le scelte che ricadono dall'alto è, per volontà, quasi sembra divina, che qualcuno debba amministrare, senza più che i cittadini mettano becco per votare. Perché il voto è una cosa che puzza ormai, fa schifo, cioè è qualcosa che diventa repellente per il sistema, perché tenta sempre in qualche modo di via il Senato, via le UTI, via le province, dice, togliamo tutto, tra un po', sì, neanche il Comune si potrà andare a votare, perché, appunto, mettiamo i commissari per le fusioni, eccetera. Mi sembra che tutto questo sistema non garantisca un futuro, e non possiamo lamentarci del fatto che poi i nostri giovani non si sentano rappresentati, non vedano un futuro, e anzi, o meglio, non lo vedano qui, in questa terra, al proprio futuro, ma lo vedano magari altrove, e non si sa nemmeno che cosa possono trovare. Questa è irresponsabilità nostra, mi ci metto dentro anch'io. Però è un dato di fatto, è un dato di fatto. E anche gli stessi cittadini che da sempre vivono in questa terra, che non si sentono più pian piano rappresentati, e non si sentono neanche la vicinanza dei politici. E non che siano politici di professione, perché anche il consigliere comunale, alla fine, non lo fa di professione. Però, anche perché sì, altrimenti, sì, non campa. Però è chiaro che il cittadino deve sentire la propria vicinanza, deve avere l'accessibilità, deve avere il proprio comune vicino. Se qui facciamo fusioni, se facciamo uti, che tipo di rappresentanza politica e vicinanza al cittadino c'è? Nessuno. Questi diventano enti astratti come l'Unione Europea. Io sfido il cittadino medio, o anche solo il 60% dei cittadini, giusto per stare un po' più alti, a dirmi concretamente l'esistenza dell'Unione Europea. Per me è una cosa che esiste in tv, perché io non ne ho a che fare, non so nemmeno che cos'è. Già la Regione è qualcosa di estremamente astratto, lo Stato non ne parliamo, figurarsi il resto. E qui c'è questa tendenza a continuare a voler astrarre, in maniera tale che i cittadini non abbiano neanche la percezione. E un po', sapete qual è la fine che fanno questo tipo di strutture? La fine di Versailles. Quando i cittadini, che erano stati completamente tenuti all'oscuro dell'esistenza della macchina del potere, a un certo punto scoprono la reggia. E cosa fanno? Indovinate un po'. Giustamente. Perché quando il potere di qualsiasi livello non tiene conto di chi glielo dà questo potere, è un potere inutile e che va abbattuto. Succederà questo pian piano. E noi qui siamo questa sera tutti riuniti bellamente, anzi siete, perché io non la proverò questa cosa qua. perché non la ritengo sicuramente neanche degna di entrare in questo Consiglio Comunale. Ma siete qui riuniti per portare avanti questa schifezza. Ora, ognuno per carità è libero di fare le proprie valutazioni politiche, le proprie parvenze di linea di partito, ma mi sembra che anche voi, lo ripeto, avevate espresso grosse difformità rispetto a quella che è la linea ufficiale che piove dall'alto, che però non avete avuto il coraggio fino in fondo di portare avanti. Perché non è una cosa di poco conto vederla in una piccola uti piuttosto che in una uti più grande. Vederla unica o molte fa una differenza. Perché se in un caso, nel primo caso non ero d'accordo lo stesso ma era meno peggio, perché almeno il territorio rimaneva suddiviso come prima oppure c'è un cambiamento. Questo cambiamento è positivo? No. Su quale base viene fatta questa suddivisione? Taglio dei costi? No, sicuramente. Miglior servizi per i cittadini? No, sicuramente. Aggregazione per zone omogenee dal punto di vista territoriale? assolutamente no. Ci si dica accentrazione burocratica? No, abbiamo appena smembrato la provincia cosa vogliamo accentrare? Non c'è un senso logico in tutto quello che viene fatto. Non c'è. Io non lo vedo. Poi, per carità, non credo di essere onnisciente, quindi tutti i dati non li so ma non me ne avete presentato neanche uno quindi partendo da zero è facile poter sbagliare ma sicuramente anche voi avendo zero avete la stessa probabilità di indovinare la scelta. E allora perché scegliete? perché così è? Sì, è un po' troppo va bene ok quindi peggioriamo vabbè sì io sono uno di quelli che l'altra volta hanno chiesto di ripresentare la provincia perché quello che si era prospettato era peggio di quello che c'è quindi per me dal mio punto di vista non c'è problema non sussiste non dico che quello di prima era il miglior sistema possibile ma certamente questo è peggio tanto per essere chiari quando io immagino quando il cittadino immagina il sistema economico immagina un sistema che funziona che cresce che dà prospettive che garantisce identità che garantisce rispetto un'area di rispetto del cittadino in cui può lavorare in maniera serena e crescere mettere radici questo oggi non c'è non c'è più addirittura il sistema economico non cresce più e noi stiamo provando addirittura a destrutturare ulteriormente il sistema senza garantire una prospettiva perché la prospettiva non c'è qual è la prospettiva di questa UTI in che senso viene fatta non esiste nella fusione dei comuni come se il problema economico fosse dovuto non si però il problema della fusione dei comuni è come dire io ho un problema trovo un capo respiratorio e dico che quello è il problema non funziona così mi si deve spiegare qual è il senso economico di cancellare le identità nel territorio di cancellare una spesa che alla fine è minima e che garantisce un servizio qui c'è anche da un lato tra fusione dei comuni faccio un po' un ragionamento complessivo ma è importante cercare di capire il mio punto di vista nel senso che tra fusione di comuni accorpamenti eccetera si ha una riduzione dei costi forse solo temporanea ma non è questo il punto perché non non è comparabile rispetto a prima perché non ottieni lo stesso prodotto quindi anche se hai una riduzione dei costi e secondo me non è così non ottieni lo stesso servizio perché il cittadino non ha più pari servizio se tu mi proponi un certo prodotto e poi mi dici che lo stesso prodotto me lo fai pagare meno è un conto ma questo non è perché non è così perché la vicinanza di un comune a un cittadino non sarà più la stessa e non sarà più la stessa servizio che può dare un futuro consigliere comunale di un comune più grande perché sarà più distante sarà meno anche la stessa UTI avrà una una formazione diversa cosa gliene frega a uno che è nominato niente come non gliene frega niente a quelli dell'Unione Europea se noi moriamo di fame zero perché tanto loro stanno lassù e lassù non sanno neanche cosa è la gente come Maria Antonietta il popolo ha fame e che mangi le brioche aveva finito il pane che mangi le brioche e qui sarà la stessa cosa magari qualcuno mi smentirà dicendo che è la cosa migliore del mondo che ci saranno dei risparmi favolosi addirittura più di quelli che ha dichiarato l'assessore Panontin che poi si è dimenticato di ripetere e di quantificare in maniera precisa nel tempo ma non importa perché alla fine quello che importa è dire noi abbiamo cambiato le cose senza dire che poi sono state peggiorate però intanto è importante dire li abbiamo cambiate perché questa è la politica che sta facendo questo tipo di propaganda le abbiamo cambiate poi non importa che dagli 80 euro che uno si trova nella tasca sinistra ce ne abbiano tolti 100 in quella destra non importa intanto vi abbiamo dato gli 80 questo è il significato delle cose non importa che le cose si cambino perché è meglio si si cambiano oggi però domani boh vediamo via tasse dentro tasse via limmo adesso la togliamo di nuovo la mettiamo prossimo anno ti regaliamo anche la mascherina per piangere ci dirà Renzi fra un po' ti paga anche quella per farti contento nel merito dell'Uti di nuovo sottoscrivo ancora quello che è stato che ho detto personalmente l'altra volta che i cittadini di Pordenone vengono ancora svenduti nonostante questo sistema che è una porcata lo ripeto perché è così pure i cittadini di Pordenone vengono penalizzati rispetto ai cittadini limetrofi cioè oltre il danno la beffa è una cosa che io veramente non riesco a capire come questa amministrazione non solo ci porti oggi qui in consiglio comunale questa schifezza di documento ma l'abbia addirittura sottoscritto con questi pesi di differenza rispetto agli altri cittadini cioè che i cittadini di Pordenone rappresentino il 43% della popolazione dell'Uti e poi abbiano un peso di voto del 31% permettetemi è una schifezza è una schifezza è una violazione della democraticità del voto vi rendete conto o fate le cose così perché un conto sono le commissioni dove ognuno ha i propri pesi di rappresentanza sono ridotte ma ognuno ha i pesi di rappresentanza che poi rappresentano in maniera proporzionale all'elezione democratica qui no che rappresentanza c'è? nessuna variabile che discorso è? ci rendiamo conto? io queste cose qua veramente sembra che vengano fatte così nel dopolavoro forse neanche perché uno nel dopolavoro magari fa qualcosa di più costruttivo per quanto riguarda il il valzer per quanto riguarda il valzer delle cariche che poi gireranno come le trottole in base alle elezioni dei comuni a meno che non vengano completamente tutti fusi allora saremo tutti belli felici e contenti di non votare praticamente più perché ormai ci sarà una scusa con uno si può anche fare una scusa non si vota più e siete ancora più tranquilli però dicevo è impossibile garantire una programmazione dell'Uti nel senso che continuano a cambiare le figure continuano a cambiare le cariche che tipo di programmazione ci può fare? a due mesi? a una settimana? a tre mesi? grandi programmazioni immagino grandi punti di lavoro che riescono a stabilire nel tempo i vari passaggi le varie innovazioni i vari procedimenti zero che innovazione puoi fare di tre mesi in tre mesi? nulla probabilmente non riesci neanche a stabilire il bilancio perché quello che viene tre mesi dopo non si prende la responsabilità di quello che ha speso quello di tre mesi prima cioè delle cose allucinanti come fa uno a votare una cosa che non ha neanche fatto lui come se fosse sua e poi anzi uno che sta lì qualche mese gli conviene mettere dentro qualcosa che tanto quello dopo si prende la responsabilità e non è nemmeno sua delle cose indegne delle cose veramente indegne riguardo ai costi ancora beh lì ancora peggio nel senso che l'idea era quella di andare a dire cancelliamo la provincia abbattiamo i costi facciamo risparmiare la gente Renzi addirittura un giorno mi ricordo che ha detto qui per fortuna non abbiamo direttamente Renzi che ha fatto questa cosa qua ma forse se la faceva lui in questo caso era pure meglio ma non voglio neanche dirlo era parlava di 10 miliardi di risparmio tagliando le province dimenticandosi che le province hanno una serie di gestione di funzioni tra cui le strade o si pensa che quei 10 miliardi fossero soldi che andavano a finire dove? sulla luna? gestivano le strade gestivano tutte le funzioni che fa la provincia le scuole provinciali eccetera tutti quei soldi andavano a dare servizi al cittadino si tagliano i politici ok si sono tagliati i politici e il resto del risparmio anzi qua in queste nuove formazioni trovano posto dirigenti presidente l'assemblea vicepresidente segretari e poi ci sono ovviamente i revisori contabili eccetera quelli sono gratis? no non sono gratis non sono tutti gratis vedremo 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 perché neanche il cane muove la coda per niente e non credo che ci sia qualcuno che dia il proprio tempo così o faccia bene le cose dando il proprio tempo gratis perché si può anche venire qui fare una partita a carte intanto scrivere una roba a caso senza pensarci mentre uno gioca a carte perché quella può essere la qualità del servizio dato da uno stipendio zero euro quindi non ci crede nessuno e su queste domande qua è sempre stato glissato il problema quindi sappiamo bene che non è così per quanto riguarda il resto ripeto che i cittadini devono sapere che queste nuove formazioni avranno la possibilità di mettere nuove tasse perché avranno l'autonomia finanziaria di risorse proprie quindi automaticamente metteranno le mani nelle tasche dei cittadini è evidente chiunque può farlo lo fa è sempre stato dimostrato quindi non dubito che avverrà anche in questo caso ci sarà un problema enorme di confusione tra deleghe e competenze nei vari passaggi tra comuni uti vecchia provincia regione stato unione europea sarà un bel casino anche lì e anche questo non mi sembra che sia che sia stato gestito nella maniera migliore e non credo che sarà gestito nella maniera migliore anche lì nel bilancio appunto si dice che viene accorpato poi in realtà lo fanno sempre i comuni perché di fatto sarà così e ci viene detto che tecnicamente sarà difficile poterlo fare unito quindi se non riusciamo neanche a unire un bilancio come pensiamo che possa servire davvero quel tipo di istituzione come possiamo pensare che se non siamo in grado di radigere un bilancio comune le cose funzionino mistero della fede anche qua abbiamo parlato l'altra volta della gestione dell'opportunità economica di entrare o non entrare in un UTI ho chiesto all'assessore quali erano i vantaggi che l'UTI avrebbe portato o meglio o i non svantaggi i costi diciamo così di non adesione e mi è stato detto che i vantaggi erano i 6 milioni che altrimenti venivano tagliati però l'assessore sa bene che viviamo nel mondo dell'oggi dove nulla è più certo quest'anno sono 6 milioni il prossimo anno magari sono 2 allora un conto è rinunciare a 6 milioni e un conto è rinunciare a 2 e soprattutto un conto è poi pagare le spese di tutta quella baraccata lì e un conto è non pagarle oltre poi a non avere più determinate competenze oltre a non rispondere più direttamente ai propri cittadini su determinati ambiti e oltre ogni volta ad avere delle complicazioni eterne nella gestione dei processi di tipo politico è chiaro che sempre più oggi i cittadini si aspettano risposte veloci abbiamo visto che il meccanismo di voto di queste uti è farraginoso è estremamente complesso ci vuole anche qui ogni volta un calcolo astrale per poterlo capire non è come un consiglio comunale dove i voti sono quelli punto ognuno vota per sé ci sono già come dire le squadre preconfezionate lì ogni volta i comuni devono giostrarsi perché se non c'è l'unanimità e difficilmente ci sarà l'unanimità perché ogni territorio ha i propri interessi da portare avanti è normale lì essendo espressione comunque di territori diversi sarà un po' un problema e questo lo vedremo lo vedremo in maniera molto chiara la cosa peggiore però è quella che alla fine ripeto questa amministrazione si fa portavoce alla fine di un meccanismo che dice dovete farlo perché dovete farlo e voi dite dobbiamo farlo perché altrimenti ci mettono un commissario che lo fa però ancora non riesco a capirvi perché l'altra volta avevate dato un giudizio questa volta ne date un altro e non riuscite a trasmettere ai cittadini quello che è il loro quello che è il benessere dei cittadini perché con questo veramente non ci siamo io concludo il limite dirò due cose dopo ma intanto lascio passo avanti grazie grazie consigliere consigliere Tomasello prego presidente volevo iniziare prima con una rassicurazione al consigliere Dalmas vorrei rassicurare che l'ospedale che sarà costruito in via Montereale è già considerato un'incendenza e sarà il miglior ospedale della regione Friuli Venezia Giulia sia con riferimento sia sarà il miglior ospedale della Friuli Venezia Giulia sia con riferimento alla struttura e volevo rassicurarlo anche con riferimento anche al personale medico perché questo ospedale è e sarà un ospedale ambito va bene va bene mi faccia parlare consigliere Dalmas lei ha parlato prima è stato mezz'ora prima e allora dopo eventualmente interverrà in secondo intervento oggi anzi la delibera da lei presentata ancora la volta scorsa certamente Assessore Mazzer lei non ha voluto entrare circa nella validità o meno della legge sul riordino degli enti locali ma questa delibera oggi sarà per dare attuazione alle scelte che questa regione ha fatto alle scelte che noi anche noi del Partito Democratico abbiamo condiviso in quanto riteniamo delle scelte abbiamo ritenuto che queste siano state delle scelte giuste e delle scelte giuste quindi tutte le osservazioni che sono state nel merito da parte anche dell'opposizione di centro-destra le ritengo del tutto inutili in conferenti sono delle osservazioni che secondo me in questo momento forse non avevano senso avrebbero avuto senso quando abbiamo discusso ancora la volta scorsa relativamente delle uti quindi aveva senso discutere anche del merito della legge quindi oggi il punto focale del dibattito eventualmente doveva essere quello dovevamo individuare le eventuali anomalie o contraddizioni giustamente l'unico forse che ha fatto un intervento azzeccato ma che non condivido perché non condivido le sue conclusioni è quello che ha fatto il consigliere Cabibbo che facendo appunto un'analisi legislativa ha rilevato delle anomalie che secondo lui appunto per le scelte sbagliate che secondo lui abbiamo fatto però il suo intervento da me non è condiviso perché le nostre scelte secondo me anche all'interno della bozza di questo statuto sono delle scelte e sono delle scelte giuste e coerenti con la legge però io mi volevo soffermare a quello che avevo rilevato nel dibattito della volta scorsa che secondo me aveva un rilievo politico molto importante che poi aveva anche accennato che poi è stato ripreso oggi direttamente anche dal consigliere dal MAS ma anche dal consigliere Giannelli cioè sia negli interventi della volta scorsa della maggioranza ma anche dall'opposizione e anche quelli di oggi è nata la convinzione che io condivido totalmente che ho anche più volte discusso anche qui in consiglio fuori del consiglio con alcuni colleghi che per rendere forte un territorio c'è bisogno di una unità della classe politica locale a tutti i livelli e di qualsiasi colore senza fare alcuna distinzione di colore cioè la necessità come ha detto giustamente prima il consigliere dal MAS di fare il sistema però non in quel modo in cui lui l'ha descritto per me fare il sistema è altra cosa per contare in questo modo più a livello regionale certamente anche a livello nazionale però ho trovato poi contraddittorio loro predicano bene ma razza non è male ho trovato poi contraddittorio il fatto che poi mi votano contro una delibera una delibera che secondo me era importante votare all'unanimità per dimostrare che questo territorio è la città di Pordenone è una città forte invece loro hanno dimostrato ancora una volta in modo antico perché ormai la politica non si fa più in modo ideologico hanno dimostrato ancora una volta di non voler bene a questo territorio e di non voler dar forza a questo territorio solo per motivi ideologici quindi entrando poi nel merito abbiamo già espresso la volta scorsa in consiglio comunale l'importanza che noi diamo all'UTI in particolare avevamo dato importanza ad un'UTI unica del territorio pordenonese perché noi riteniamo perché l'UTI unica serviva il territorio a tutti i cittadini e le imprese perché potessero avere così un unico interlocutore e quindi un'unica gestione amministrativa purtroppo questa nostra decisione presa all'unanimità non è stata non è stata accolta però pazienza in ogni caso l'UTI del noncello rappresenta certamente lo stesso una soluzione ottimale e che ci considera lo stesso oggi di fare un pensiero lungo che io e il mio gruppo vogliamo oggi esternare anche al fine di aiutare a imbastire un progetto più strutturato intanto con riferimento ai comuni che fanno parte dell'UTI del noncello si dovrà cominciare a pensare al superamento per noi delle divisioni amministrative in un territorio che in alcune sue parti costituisce un tutt'uno sotto l'aspetto urbano vedi Pordenone con Cordenons Pordenone con Porcia Pordenone con Roveredo Roveredo con Porcia Cordenons con Sanquirino eccetera Pordenone con Zopola dobbiamo prendere atto che l'espansione urbanistica ha travolto ogni confine si fa veramente fatica a giustificare le ragioni di un'eccessiva frammentazione se non seguendo le vecchie logiche del campanile in questi mesi la legge sul riordino delle autonomie locali ci ha dato lo spunto anzi e ha fatto tornare a galla l'idea che le amministrazioni possono fare qualcosa assieme ma non limitandoci per noi alle sole unioni infatti ci si limita ancora a parlare di unioni di comuni e cosa ben diversa da una vera e propria fusione che forse buona parte della politica forse non vuole e che sicuramente oggi partendo dall'idea di UTI l'UTI sicuramente si rafforzerà questa idea della fusione noi del partito democratico riteriamo che non ci si può soltanto limitare nell'UTI a gestire i servizi il nostro obiettivo finale è la fusione e per noi la fusione non ha alternative così come hanno ribadito gli amici del fiume la meta finale è un unico comune specialmente in un territorio come quello dei sette comuni di Pordenone Cordenone Sanquirino Porcia Roveredo Zopole Fontana Fredda in un territorio ben strutturato e omogeneo come dicevo prima le cui priorità è quella di alzare il livello della qualità delle prestazioni avendo a disposizione scarse risorse finanziarie e che a che cosa servono sette sindaci ecco questi qua sono i risparmi delle fusioni consigliere Piccinato sette segretari generali una quarantina di assessori un centinaio di consiglieri non basterebbe un sindaco di una giunta dinamica e rappresentativa di tutto il territorio e anche un'assemblea più ristretta va bene e si potrebbe risparmiare ancora su altri costi della politica basterebbe solo un ufficio di segreteria e una unica tornata elettorale non solo a lungo andare dalla ristrutturazione delle piante organiche questo è anche un mio pensiero per l'amor di Dio non voglio coinvolgere il gruppo ma sicuramente spero che il gruppo mi venga dietro a lungo andare dalla ristrutturazione delle piante organiche si ricaverebbe altre risorse da destinare agli investimenti la programmazione sarebbe più fluida e i servizi più efficienti praticamente se noi consideriamo l'utile noncello un punto d'arrivo sono sicuro che si andrebbe verso un percorso precario anzi io ritengo l'utile noncello un passaggio obbligatorio di un percorso già iniziato con l'amministrazione scorsa perché quella dei servizi condivisi è un principio fondamentale anche contenuto della nostra bozza di statuto ok mi faccio riferimento alla critica che ha fatto il consigliere Cabibo relativamente all'articolo non mi ricordo faceva che rindiava l'articolo 29 della legge regionale della legge regionale è comunque la nostra scelta politica è quella della condivisione dei servizi scelta politica che è in continuità già con la precedente amministrazione e anche con questa amministrazione ma dai stai zitto devo sentire ma cosa stai dicendo sono 60 anni che sei qua è ora di andrò te le puoi anche andare via silenzio silenzio consigliere Tomasello consigliere De Bortoli silenzio consigliere De Bortoli vai a casa 60 anni che sei qui 60 anni è una vergogna 60 anni consigliere Tomasello per cortesia consigliere De Bortoli per cortesia non interrompa ormai a ridosso del fiume Noncello si è sviluppato un'unica città che ha l'opportunità di integrarsi con tutte le sue parti per esempio la nuova realtà potrebbe ricucire il tessuto delle risorgive delle grave dei magredi dei laghetti dei parchi valorizzando un ricco ecosistema quindi non solo morfologicamente parlando non c'è nulla che possa giustificare il mantenimento delle divisioni territoriali ma neanche l'economia la cui impronta è la stessa tanto meno la cultura e la storia per questo motivo l'intero comprensorio è la necessità di essere rigenerato dallo stato di crisi con gli stessi strumenti urbanistici e programmatori proprio di una città compatta e omogenea come è stato già ricordato se non sbaglio dalla consigliera Piccino dal consigliere Pedicini già in tempi lontani la città del Noncello raggruppava sette città Pordenone, Cordenone, Sanquirino Rorai Grande, Valeroncello Corva e Poincico e questo durò se non sbaglio disse la consigliera Piccini fino all'età napoleonica l'unità delle sette città del Noncello l'ha detto lei consigliera la volta scorsa mi ricordo poi Cordenone Silenzio Vabbè sicuramente l'ho soltanto richiamata l'ho soltanto richiamata beh vuol dire che sto attento vede poi Cordenone si acquisì la municipalità l'unione fu rotta prima esisteva un'area amministrativa coesa senza alcun soggetto che perdesse qualcosa di suo si distinguevano poi Porci e Roveredo insomma quindi io dimostro che anche storicamente la città di Pordenone diciamo la città del Noncello era una città unita ok? una città unica quindi non vedo nulla di sconvolgente se arriviamo alla fusione alla fusione delle sette città che fanno parte che fanno parte del noncello io concludo anche facendo la dichiarazione di voto dicendo che questa riforma sicuramente porta con sé un impattante aspetto innovativo più adeguato alle condizioni sociali economiche e istituzionali che stiamo vivendo lasciando nel contempo la responsabilità ai singoli comuni di programmare e gestire secondo noi in maniera diversa l'organizzazione e l'erogazione dei servizi considerati più tradizionali non scegliere non affrontare la questione come qualcuno oggi dell'opposizione di centro-destra ha detto significherebbe dare un significato di voler rinunciare al cambiamento e quindi alla possibilità di poter migliorare in ogni caso riteniamo che la delibera di oggi è un passaggio necessario anche per poi raggiungere quello che ho appena esposto cioè arrivare alla fusione dei comuni quindi il mio gruppo certamente voterà favorevole e rispingerà tutti gli emendamenti grazie grazie consigliere Piccin prego grazie presidente io intervengo questa sera ad integrazione di quanto ho già come dire esposto durante lo scorso consiglio comunale perché un po' il dibattito è comunque sempre stimolante e la posizione del capogruppo del PD Tomasello in particolar modo poi sulla quale ritornerò mi ha come dire sollecitato la mente ma anche ritornando a rileggere alcuni documenti perché così come ha detto come ho detto ho avuto modo di dire l'altra volta possiamo stare a parlare per sei mesi dello statuto dell'Uti e poco avremo da dire rispetto a quello ma dello spirito e della norma che ha portato a come dire a trovarci qui oggi per la seconda volta credo non ne parleremo mai abbastanza e allora dicevo che rileggendo alcuni documenti e alcune cose che sono state dette in consiglio regionale da parte di illustri esponenti del PD mi sono mi sono chiesta se quella è quello che loro hanno detto lì pur votando poi o non partecipando al voto magari per la verità qualcuno di loro corrisponde esattamente a quella convinzione che ritrovo qui questa sera a questo aggiungerò poi alcuni elementi che fanno riferimento e che l'altra volta non ho detto al ruolo della nostra città e del nostro territorio pordenonese senza entrare nei dettagli che già chi mi ha preceduto ha avuto modo di illustrare per ordine insomma vedi Tomasello quando dici che il nostro territorio deve fare sistema e secondo te fare sistema significa votare questo statuto non è così non è così no non è così io sono stanca e l'ho detto e lo dicevo già durante quell'altra consigliatura qua e legislatura di sentir dire che il nostro territorio deve fare sistema e di colpe trasversali chi ha rappresentato questo territorio a Trieste ce ne sono prima e adesso ma adesso sai qual è la colpa più grave adesso la colpa più grave è quella mi rivolgo a te ma mi rivolgo al consiglio scusami non è che ce l'ho con te ma siccome l'ultimo intervento e come ho detto mi ha sollecitato la mente dicevo che sono stanca di essere presa in giro adesso negli ultimi sei mesi e ti spiego vi spiego perché per arrivare all'altro giorno vice sindaco Mazzer e per educazione e cortesia non ripeterò allora correva marzo di quest'anno i primissimi il 3 di marzo e non in preda ai giornali che scrivevano ruolo di Pordenone ma ai testi normativi e a ciò che arrivava sistematicamente di informazioni da Roma perché il depotenziamento del nostro territorio passa sì attraverso la nostra regione Friuli Venezia Giulia i nostri rappresentanti che non sono coesi bla 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 ma qualcuno l'ha detto questa sera attraverso il fatto che credo che noi siamo in qualche modo merci di scambio questa piccola regione di confine posta in alto dove Torrenti ci viene a dire che abbiamo anche pochi migranti tra l'altro perché siamo bravi allora dicevo che a marzo di quest'anno senza correre dietro a quello che scrivevano i giornali io assieme ad alcuni colleghi di minoranza abbiamo presentato una mozione per cercare in qualche modo non di portare a casa miracoli ma di porre l'accento rispetto ad un depauperamento di questo territorio senza precedenti e questa mozione proprio per dirla come parlava prima Tomasello cioè fare sistema per il territorio io l'ho girata a tutti i colleghi consiglieri che rappresentano questo territorio perché il collegio è la provincia di Pordenone quando abbiamo votato nel 2013 dopo insomma le cose sono andate un po' diversamente però il collegio era quello nessuno nessuno sottolineo nessuno collega appartenente alla maggioranza regionale ha non dico detto no grazie ha si è degnato di rispondere forse perché la prima fermataria era Picin componente del gruppo misto non lo so sta di fatto che un giorno dopo a firma l'IVA è stata depositata una mozione di pari tenore allora io dico guardate che ve la firmo io perché non ho questo problema la faccio breve che cosa è successo è successo che prima di arrivare in aula a discutere questa mozione nonostante io l'abbia messa fatta iscrivere tramite il capogruppo del misto più volte all'ordine del giorno del consiglio regionale sono passati diversi mesi e che cosa ha escogitato la maggioranza un emendamento sostitutivo sostitutivo integralmente della mozione che io ho accettato riconoscendo il ruolo naturalmente e i numeri che avevo in chiaramente in opposizione ho sottoscritto e abbiamo votato all'unanimità allora questo emendamento sostitutivo l'IVA Piccin sapete che cosa dice vi risparmio le premesse ma dice impegna il presidente della regione e la giunta regionale all'unanimità del consiglio regionale data maggio credo di quest'anno quindi non l'era geologica a dedicare una particolare attenzione anche in termini di perequazione delle risorse e delle opportunità a questa parte di territorio regionale coincidente con la provincia di Pordenone che si è caratterizzata in questi anni per il coraggio con cui ha affrontato le innovazioni anche istituzionali che hanno riguardato il proprio territorio che non si è mai sottratta ai sacrifici ai cambiamenti ma non per questo è meno disponibile sostenere e innervare l'unità e la specialità regionale bla 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 cosa vuol dire a dedicare una particolare attenzione vuol dire forse che bisognava arrivare tutti quanti assieme ad approvare questo statuto a dire che le UTI vanno bene no no voleva dire e mi rifaccio al discorso che ha fatto all'inizio di questa serata il collega dal MAS voleva dire che questo è un territorio che deve essere tenuto e poi ha ripreso Giannelli nella medesima considerazione degli altri non ci siamo allora noi ce la raccontiamo qui è il vuoto delle parole che diciamo è assordante Tomasello il mio è il tuo lo sforzo non arriva i vicepresidenti che ci rappresentano non ci rappresentano non lo so che cosa succede però questo è tant'è che a proposito di UTI tu che segui voi che seguite come me attentamente leggo il 22 9 2015 una dichiarazione del vicepresidente noi sappiamo che il vicepresidente Bolzonello che è espressione fortissima di questo territorio e della città chiaramente perché ha governato per dieci anni dice io virgolettato sono contrario alle UTI 22 settembre 2015 allora io non lo so che cosa succede però queste sono le dicazioni ma è smentita ma è smentita ma è smentita allora guardate io l'ho già detto l'altra volta vi ho già detto come la penso sul fatto che sia una sovrastruttura sul fatto che è un'accessione di sovranità dei consigli comunali dei sindaci rispetto a questo a questa argomentazione ve l'ho detto e ve lo ridico secondo me questa è una cosa che di fronte alla quale noi come comune di Pordenone avremmo dovuto resistere forti dei dubbi di legittimità che ci sono perché io non credo che gli altri 60 comuni che hanno resistito e sui quali la scorsa settimana l'assessore Panontin come dire è rimasto un po' elastico ha detto 60 da commissariare sono tanti speriamo in qualche modo di riuscire quasi a mettersi nelle mani divine o della giurisprudenza o dei giudici dire beh insomma quasi quasi se ce la impugnassero magari ci risolverebbero qualche problema io dico che io dico che noi avremmo dovuto fare ricorso in merito alla fusione presentate un ordine del giorno avete bocciato l'altra volta l'emendamento dal MAS del collega che parlava di fusione avete bocciato presentate un ordine del giorno che impegna il sindaco e la giunta ad andare a parlare inuti di fusione di comuni non è una sfida provate a farlo e vedrete e vedrete che i comuni limitrofi non sono d'accordo e vedrete che un illustre esponente del PD di questa provincia che corrisponde al nome di Renzo Oliva vi guarda con due occhi così e dice chi se ne frega ma questi sono i rappresentanti che ci sono in regione presenta l'ordine del giorno votalo quale? benissimo io ti auguro di fare le fusioni dei comuni e di trovare i voti in consiglio regionale l'ho detto l'altra volta non serve dirlo bisogna farlo esiste la possibilità di fare una proposta di legge di presentarla senza se e senza ma la maggioranza c'è ed è blindata e di approvarla e di andare alla fusione dei sei o sette comuni non so quanti ne volete prendere voi io non credo che sarà una strada facilmente percorribile non sto dicendo che è giusta o che è sbagliata dico che il mio è un discorso tutto politico non è sicuramente facilmente percorribile detto questo detto questo mi piace riportare quello che vi dicevo prima cioè qui noi stiamo discutendo e non leggo perché diventa noioso ma vi posso assicurare che sarebbe di una intelligenza sopraffine e di un altissimo livello filosofico di un collega che io stimo moltissimo e che siede in consiglio regionale del PD non lo leggo ma ne riassumo i contenuti dice il collega e alla fine vi dirò chi è qui sostanzialmente si sta parlando di risolvere un problema dei piccoli comuni perché dice ed è dovrebbe essere se la logica è la filosofia di mettere assieme i servizi cercare di essere efficienti nei confronti dei cittadini e perché no ad un certo punto portare anche risparmio cosa che io l'altra volta vi ho portato un dato nessuno mi ha smentito sul costo di queste uti nessuno mi ha smentito e non mi ha nemmeno riproposto un nuovo elenco di spese per dire guardi consigliere Piccin che lei ha cannato in pieno ripeto ciò che ho detto l'altra volta stiamo ancora aspettando ma presto andremo fra un mese e mezzo in finanziaria di vedere il capitolo con i 10 milioni di euro o 15 erano 22 ma basterebbero la metà di risparmio sulla chiusura delle province dicevo il collega dice sostanzialmente qui si cerca di razionalizzare il tutto per dare migliori servizi ed è quello che diceva anche uno fra i tanti il collega Tomasello prima dice sì una riforma impattante la definita innovativa che farà sicuramente bene allora per ritornare sempre allo stesso collega lui dice ma perché io devo dire che ciò che è piccolo non va bene e forse dice che un bambino di due anni vale di meno di un adulto perché è piccolo non è così qui noi stiamo risolvendo la complessità non appunti solo questo ossessore che è uno spunto come dire succulento il senso è noi qui vogliamo risolvere la complessità e la complessità passa attraverso la stratificazione di norme ok senza risolvere quello creiamo una nuova sovrastruttura per risolvere quello allora non è molto più semplice che noi andiamo a togliere di mezzo ciò che ci preoccupa ciò che ci dà fastidio io credo che una vera riforma degli enti locali così come avrebbe dovuto essere avrebbe dovuto prima di tutto passare attraverso la semplificazione normativa a livello regionale parlo qui il comune non ha colpe semplificazione normativa testo unico leggi semplici chiare in modo che e oltre sopra la regione naturalmente lo stato dove ci perdiamo ogni volta che andiamo a vedere un testo normativo dove anche il comune più piccolo mettendo assieme i servizi così come lei ha già detto perché noi già lo facciamo sarebbe stato in grado di come dire rimanere preservare e mantenere la propria identità guardate che a me fa veramente impressione sentir parlare di un allineamento totale di una fusione complessiva di sei sette comuni senza tenere presente le diversità che all'interno di questi comuni ci sono Porcia è il più simile dei comuni limitrofi a Pordenone almeno io la penso così poi mi sbaglio guardate che Cordenons è un'altra cosa San Quirino è un'altra cosa apro una parentesi e la chiudo velocemente io a San Quirino lavorai nel lontano 1992 a sostituzione della ragioniera che era in maternità e lavorai lì nove mesi per la prima volta nella mia vita a vent'anni dovetti iniziare ad allungare l'orecchio per comprendere le persone che comunque arrivavano in comune e parlavano una specie di friulano che non so se è il friulano vero o no adesso qualcosa pare queste sono le diversità e a questo proposito e a questo proposito e che io non sono disposta affinché il tutto venga allineato verso il basso o verso l'uguale nella maniera più assoluta e a questo proposito dico anche che il comune di Pordenone ha perso l'occasione di partecipare ad una forma istituzionale un organismo istituzionale previsto dalla legge sull'autonomia cioè le assemblee di comunità dove è vero che a noi non ce ne frega niente di queste identità e di questa lingua diversa perché a Pordenone non si parla ma è altrettanto vero che se vogliamo così come è nella vostra testa svolgere un ruolo ampio beh insomma bisognerà anche pensare che a Pordenone se si parla diverso di qua e Sanquirino pure ho aperto e chiuso la parentesi questo per dire che cosa questo per dire senza ripetere che e chiudo che ha il ruolo che la città ha svolto e che il comune ha svolto rispetto a questa questione è stato assolutamente marginale e poco incisivo che se c'erano dubbi da parte di chi ci rappresenta in regione o vi rappresenta in regione questo consiglio comunale avrebbe dovuto fare da casa di risonanza quei dubbi non avrebbe dovuto allinearsi perché o è di una o l'una o l'altra ok i dubbi stessi assessore vice sindaco Mazzer li ha espressi anche lei l'altra volta non so non sappiamo vediamo ma io lo dico perché mi sarei trovata nella stessa sua situazione anzi no no avrei fatto di tutto per non trovarmi in quella situazione ok e ripeto e ribadisco che lo spauracchio del taglio del 30% dei contributi al comune non può e non deve essere in un sistema democratico ciò che fa decidere di forza un'amministrazione e un consiglio comunale chiudo dicendo che non sono assolutamente convinta della bontà di questa operazione questo è un meccanismo di come dire sottile politica fatta da chi non appartiene a questo territorio da chi viene da fuori territorio non l'ha inventata Panuntin questa cosa che abita da Zanodecimo lui è il mero esecutore di chi viene da Roma anche se abita qua ma ha la testa a Roma e governa da Roma e sta piegato rispetto alle volontà di Roma esattamente come quando alla fine dell'impero romano soldi non ce n'erano più e allora per mangiare a Roma si andava a recuperare tutto intorno e nell'impero non credo che questo sia un buon esempio rimango come ho detto fermamente scettica rispetto a questo e poi nella dichiarazione di voto esprimerò la mia posizione grazie grazie consigliere consigliere freschi prego grazie presidente mi dispiace che l'ex presidente Rossi della provincia se ne stia uscendo perché voglio fare qualche passaggio sulla provincia comunque e l'ex presidente Ciriani ancora presente allora io faccio parto da una considerazione stiamo parlando di UT perché è un percorso che parte che parte da lontano cioè il tutto si muove nel momento in cui si decide di riordinare gli enti locali e si decide di riordinare gli enti locali partendo innanzitutto dal riordino delle province correva l'anno 2012 quando il governo Monti già sull'onda dei governi precedenti decise di mettere in atto il passaggio per il quale si andava verso l'abolizione delle province io in quella circostanza presentai anche una mozione in consiglio comunale che dopo dovete ritirare perché le cose andarono talmente avanti che ormai non c'era più spazio e tempo per discutere però la presentai per sollevare proprio per cercare di sollevare proprio un dibattito sull'argomento perché quella è la madre un po' di tutte le cose che sono seguite che sono seguite dopo bisognava andare verso un riordino degli enti degli enti locali per cui si individuò un ente e si decise di dire che quello era l'ente che andava in qualche modo soppresso e in qualche modo si andava verso anche un risparmio di spesa purtroppo bisognava trovare a mio avviso un capo espriatorio lo si è trovato lì non pensando e non ragionando sul fatto che potevano essere fatti tutta una serie di passaggi sulla razionalizzazione degli enti che sono rimasti prima di passare all'ente provincia che rappresentava un ente di area vasta venuto a mancare quel passaggio si è cominciato a parlare e tutto veniva coniugato assieme alla forte crisi economica che imperversava si è cominciato a parlare di UTI e nel momento in cui si è affacciato questo questo problema ne abbiamo anche discusso in consiglio comunale abbiamo fatto di ragionamenti questo consiglio comunale si è espresso in un certo modo riguardo l'UTI unica che non è stato non è stato raccolto dall'amministrazione regionale consigliere ribetti io le sto offrendo formalmente tanti spunti per intervenire dopo ne ha facoltà di farlo perché cerco di fare un discorso obiettivo che cerca di andare al di là delle appartenenze ideologiche in quanto non mi sento figlio di appartenenze ideologiche e cerco semplicemente di fare un ragionamento razionale per quanto possibile e assettico dall'appartenenza cosa che lei probabilmente non riesce mi sono letto le cose caro consigliere ribetti caso caro consigliere ribetti il ragionamento che volevo fare era un po' questo nel momento in cui facevamo il ragionamento dell'UTI unica era un ragionamento che aveva in sé una questione tecnica e una questione politica la questione tecnica era quella che anche le UTI diffuse riescono ad applicare cioè la razionalizzazione dei servizi la questione di tipo politico era che invece si faceva in qualche modo massa critica con l'UTI unica rispetto a un'UTI parcializzata questo era il passaggio che noi forse dalla posizione di Pordenone da città capoluogo che presta e offre servizi al territorio avevamo probabilmente una visione di tipo diverso io mi sono confrontato con alcuni amministratori del territorio e ho constatato che da parte loro erano amministratori di destra e di sinistra di civiche con dalle più svariate espressioni che da parte loro c'era questa resistenza e per certi aspetti potevo anche capirla ma la capivo nella misura in cui il passaggio era visto come una soprafazione del comune capoluogo rispetto al territorio quando io ho parlato in passato di UTI proprio di banchi di questo consiglio ho sempre detto che l'approccio non doveva essere quello del comune più grande nei confronti del comune più piccolo ma doveva essere sempre un'attenzione uno sforzo nel vedere i problemi dalla parte del comune più piccolo nei confronti del comune più grande perché solo ponendosi nei mocassini come dice un vecchio proverbio indiano degli altri e camminandoci ci si rende conto di qual è il peso e la portata del problema per cui il ragionamento se dal nostro punto di vista era un ragionamento che aveva una visione globale e ampia mi rendo conto che da parte dei comuni del territorio il ragionamento era un po' diverso e la strada che è seguita la strada obbligata che è seguita è stata quella delle UTI più ridotte più contenute forse più omogenee per certi aspetti dal punto di vista dei comuni ma più contenute dal punto di vista della massa critica della massa politica che potevano in qualche modo definire io non ho la presunzione di dire che questo è lo strumento migliore ci mancherebbe penso che tutte le cose sono perfettibili e migliorabili mi sarebbe piaciuto ad esempio che dal punto di vista tecnico si fosse affrontato a livello di commissione passaggio per passaggio di questo statuto perché forse facendo passaggio per passaggio e non ponendo la pregiudiziale delle commissioni una, tre, cinque e via forse si riusciva anche consigliere Dalmas capisco il suo problema qual era ma forse si riusciva anche a fare forse si riusciva a fare anche qualche passaggio che pur rimanendo ognuno nelle proprie posizioni perché non c'era la pretesa di far cambiare niente a nessuno ma forse qualche passaggio veniva ulteriormente sviscerato anche quello che questa sera ha sollevato con professionalità attenzione il consigliere Cabibbo perché forse facendo qui passaggi tecnici saremmo entrati di più nel merito della materia e forse avremmo anche potuto insieme fare qualche modifica che poteva essere a beneficio a beneficio di tutti questo passaggio non si è voluto fare capisco le motivazioni politiche ognuno chiaramente portatore della propria bandiera però penso che quel discorso a cui faceva riferimento anche la Mara Cipicin di fare sistema forse non poteva essere fatto a livello finale dell'operazione ma forse qualche accorgimento migliorativo ci poteva essere questo territorio è riuscito a fare sistema nel passato è riuscito anche a dividersi tante volte ma è riuscito anche a portare a casa dei risultati e ricordo tante operazioni del passato fatte sia a livello di parlamentari sia a livello di consiglieri regionali e anche lei consigliere Dalmas nella sua storia di famiglia forse qualcosa conosce in merito perché nel momento in cui si deve fare massa critica bisogna prego mi dispiace per lui perché un territorio fa massa critica nel momento in cui riesce a condividere gli obiettivi riesce a condividere un percorso riesce ad essere solidali su alcune scelte non possiamo sempre attribuire a Udine il fatto che riesce a fare massa critica riesce a portare a casa i risultati quando siamo noi stessi che molto spesso ci facciamo male da soli allora forse dovremmo saper leggere le cose in maniera un attimino diversa ritornando al discorso per il quale questa sera noi siamo qua in consiglio a dibattere ed è quello dell'Uti io penso che questo sia un passaggio importante per la nostra comunità e per il nostro territorio il discorso che prevede sullo sfondo le fusioni dei comuni certamente non è un discorso facile è un discorso che richiede dei passaggi intermedi e le Uti sono certamente dei passaggi intermedi perché nel momento in cui si mettono insieme servizi nel momento in cui ci si accorge che in un territorio limitato come il nostro è inutile fare doppioni ma si possono fare delle scelte che sono condivise e sono alla portata di tutti forse si riesce a fare un passaggio ulteriore verso una visione globale ma locale nello stesso tempo cioè noi dovremmo cercare di valorizzare i singoli nell'insieme metterci insieme per fare elevare e creare le eccellenze che sono in ciascuno ogni comune ha delle particolarità qualcuno diceva prima che Cordenonse è diverso da San Quirino la Mara Picin esprimeva alcune sue esperienze di tipo lavorativo in quel di San Quirino i miei genitori sono originari di San Quirino conosco bene quel comune conosco anche l'atteggiamento la parlata che c'è per cui capisco queste cose però se non andiamo oltre questi aspetti se non riusciamo a mettere insieme queste cose rimarremo tante periferie e le periferie purtroppo sono quelle parti sempre deboli di un sistema noi dovremmo cercare di mettere insieme ciò che è un'eccellenza per un territorio assieme a quella che non ha difficoltà per l'altro e mettendo insieme queste cose forse potremmo fare massa critica come può un comune sotto i 5.000 abitanti ad esempio poter avere le stesse competenze la stessa potenzialità la stessa professionalità nel momento in cui deve accedere non so dico dei contributi europei rispetto a un comune che ha un'esperienza alle spalle che ha dei numeri diversi che ha delle competenze diverse secondo me questo è dare una mano a chi è più piccolo e nello stesso tempo chi è più piccolo può dare una mano a chi è più grosso a guardare le particolarità a guardare le peculiarità che molto spesso sfuggono questi sono i passaggi che questa legge in qualche modo ci obbliga certamente noi siamo per certi aspetti forse noi come provincia di Pordenone come territorio del Pordenonese li sentiamo più fortemente ci sentiamo forse un po' più colpiti perché perché siamo i primi che siamo entrati in una fase sperimentale per quanto riguarda il discorso della provincia e ci sentiamo in qualche modo indeboliti da questo fatto però tutti questi passaggi ci offrono anche delle opportunità che dovremo saper cogliere e dovremo saper valorizzare l'UTI sarà un'opportunità per guadagnarci un pezzo in più di sovranità se la sapremo gestire bene se la gestiremo in maniera invece contrastante e divisa sarà un'ulteriore occasione persa noi come diceva anche l'assessore Mazzer approviamo lo statuto ma possiamo rimandare alcuni passaggi che riguardano specificatamente dei punti perché possono essere oggetto di ulteriore discussione nell'ambito dell'UTI e questi devono essere il consiglio comunale deve essere questo cioè deve essere lo strumento che permette di individuare quelle che sono delle debolezze e delle anomalie per poter dare dei suggerimenti positivi per poter dare dei suggerimenti di crescita perché l'UTI non è una decisione nostra è una decisione che in qualche modo viene proposta dalla regione all'interno di un dibattito che c'è stato in consiglio regionale infatti il dibattito non dovrebbe essere di questo consiglio il dibattito dovrebbe essere stato a monte nel senso che un consiglio regionale di cui sono portatori e portatrici anche esponenti del nostro territorio avrebbe dovuto fare in quella sede tutte le osservazioni del caso a noi spetta un passaggio cioè quello di calarlo nel nostro nel nostro statuto e poi guardate io penso che ogni tanto ho sentito stasera dei passaggi riguardo la figura del sindaco addirittura la stanza dove si deve sedere che non è quella del palazzo storico ma è quella dell'operatività della struttura ma non riesco a capire siamo sempre contrari ai governi tecnici perché diciamo che i governi tecnici sono assettici cioè non vedono la politica la politica significa vedere i veri bisogni e non limitarsi alle voci di bilancio e pretendiamo che il sindaco diventi un tecnico ma se il sindaco continuiamo a dire che la persona la figura istituzionale è più vicina al cittadino il sindaco sarà colui il quale interpreta i bisogni del cittadino e li trasferisce nella macchina amministrativa non riesco a capire questa situazione che da una parte vogliamo che il sindaco sia un tecnico per cui assettico da certe cose e dall'altra diciamo che il sindaco è la figura più vicina al cittadino per cui conseguentemente politico in quanto deve interpretare i bisogni ho l'impressione che ci sia un po' di confusione nei ruoli e nelle interpretazioni dei ruoli ecco c'è un passaggio assessore Mazzer che mi ha colpito dello statuto e mi pare per quanto riguarda la questione partecipativa se vogliamo metterla sotto questo aspetto e non so se sia stato opportunamente valutato è una cifra un 20% dove si parla di referendum un 20% per quanto riguarda la nostra UTI penso che sarà sull'ordine di 20.000 persone se lo rapportiamo i 500.000 sottoscrittori di un referendum nazionale mi pare una cifra esorbitante allora ecco forse qui a qualcuno è sfuggita la penna non so nel senso della cifra mi sono dimenticato di chiederlo prima come chiarimento ma se poi magari in sede di replica lo vuol fare mi pare una forma partecipativa piuttosto pesante insomma dal punto di vista di poter partecipare mi pare piuttosto pesante ecco ma al di là di questo appunto che è solo di natura di natura tecnica anche se poi ha un risvolto politico certamente non 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 entro più nel merito di altri aspetti ecco l'altro passaggio è l'ultimo su cui su cui chiudo ecco l'interpretazione è che se noi non approviamo questo passaggio dell'UTI verremo penalizzati nei trasferimenti nella misura del 30% io capisco che venga strumentalizzato e venga detto che se non lo fate è un'arma di ricatto è un qualcosa che pende come una spada di Damocle ma io non penso che questo sia il ragionamento da fare il ragionamento da fare è quello di dire ma siamo convinti che metterci insieme è una cosa che fa crescere un territorio e questo è il ragionamento non è il discorso della penalizzazione il discorso della penalizzazione vabbè può essere uno strumento che è stato messo lì ma io non cioè non ci fosse stato questo passaggio il ragionamento l'avrei fatto ugualmente a prescindere da questo passaggio cioè è un'opportunità che viene data è quella di mettere insieme servizi mettere insieme servizi per dare una risposta più efficiente e più efficace il territorio siamo convinti di questo o non siamo convinti di questo questo è il quesito che ci dobbiamo porre il quesito non è se non lo fai avrai una penalizzazione questa è la conseguenza che ci sta ma la maturazione di un ragionamento politico sta nel capire nel comprendere che siamo di fronte ad un passaggio completamente nuovo a un passaggio al quale non eravamo abituati ma che forse la situazione ci obbliga anche a pensare in questo modo perché non possiamo prescindere dal fatto che una crisi forte c'è stata e che qualcosa è cambiato nel nostro meccanismo e che dobbiamo attrezzarci per affrontare altre situazioni che potrebbero essere ugualmente difficili questo è uno strumento che ci viene dato sta a noi attuarlo in un modo piuttosto che in un altro sta alla classe politica che governa i territori essere attenta al fatto di riuscire a rinunciare ad una parte di propria sovranità per renderla comune agli altri ma per renderla più forte non per perderci ma per guadagnarci qualcosa ecco mi pare che con queste considerazioni seppur messe un po' in ordine sparso si possa andare incontro all'approvazione di questo documento con una sottolineatura che è una riforma che nel suo percorso avrà bisogno di continue manutenzioni riprendo una sua frase assessore ma sono convinto di questo perché chi è convinto che tutto è già ingabbiato in scatolato fa un errore perché ritengo che solo l'esperienza e solo il percorso ci potrà dare in qualche modo delle chiavi di lettura che ad oggi possono essere anche difficilmente interpretabili ma che il percorso l'obiettivo finale è quello cioè razionalizzare i servizi dare più servizi dare più efficienza e più efficacia a ciò che in qualche modo abbiamo pensato e gestire insieme i servizi ci può permettere anche di darne di più a costi inferiori grazie grazie consigliere freschi consigliere ribetti prego grazie grazie presidente io credo di aver fatto di aver esposto tutte le mie considerazioni già nel corso del precedente intervento però ci sono alcuni aspetti che meritano di essere ribaditi meritano perché perché non si può tacere di fronte a quello che qualche mio collega ha definito forse con termini forti una porcata una schifezza possiamo chiamarla come vogliamo usare i termini migliori un pochino più dolci un pochino meno dolci ma la verità la verità è una sola la verità è una sola ed è che ci ci chiamate anzi vi chiamate perché noi non parteciperemo al voto perché non vogliamo sporcarci le mani minimamente con questa cosa vi chiamate a votare qualcosa di cui nemmeno voi siete convinti io voglio partire voglio partire rispondendo sommariamente a qualcosa all'intervento di chi mi ha preceduto del consigliere Freschi lo stesso consigliere Freschi che io ricordo ricordo non più tardi mi sembra del consiglio comunale nel quale si è discusso del piano urbano della mobilità se non ricordo male o di quel che il consiglio comunale fa invocava a gran voce additando queste opposizioni come coloro che fanno un'opposizione becera un'opposizione strumentale no fammi finire fammi capire fammi fai spiegare se mi fai spiegare forse capisci quello che voglio dire additava queste opposizioni come coloro che non si mettevano che facevano opposizione strumentale che non erano mai pronti a fare squadra no non l'hai mai detto non l'hai mai invocato non l'hai mai indicato non l'hai mai invocato perfetto ci sono le deregistrazioni no l'ha detto anche Freschi ci sono le deregistrazioni ti porterò le deregistrazioni le quali invocavi da parte di questa opposizione una maggiore disponibilità nei confronti della maggioranza bene prima io ho fatto riferimento al consiglio comunale dove tu per altri motivi non potevi esserci dove io ho esordito dicendo ma non era non stavo facendo un conteggio a me dispiace non stavo facendo un conteggio di consigli ai quali sei mancato o sei stato presente era solo per specificare una cosa il mio intervento l'altra volta ho iniziato chiedendo all'assessore Mazzer come avevano votato queste opposizioni di fronte alla richiesta fatta da quella amministrazione dalla vostra amministrazione sull'uti unica se lo ricorda assessore più di così ci proponete un'uti unica vi diciamo di sì diciamo facciamo squadra noi siamo tranquilli perché a Trieste ci siete voi che avete la filiera e adesso adesso voi ci venite ad accusare perché questo hai detto all'intervento cinque minuti fa di non avere vincoli mentali perché voi siete scevri da vincoli di partito e invece adesso vi andate a rimangiare a rimangiare quella delibera che ci avete fatto votare sull'uti unica per farci votare una delibera sull'uti spezzettata allora io credo che beh guarda allora sarò visionario mi sono sognato quello che ti dico io credo io credo io credo che se c'è qualcuno che ha dei vincoli di sudditanza nei confronti di qualcun altro che siede lontano da Pordenone nonostante Pordenone abbia raccolto le sue fortune non va certo guardato dai banchi di questa minoranza cercate di leggervi le carte cercate di vedere cosa ci avete fatto votare non più tardi di qualche mese fa e dove avete trovato appoggio in questa minoranza lì andava tutto bene dopodiché cosa vi hanno fatto vi hanno chiuso la porta in faccia vi hanno fatto vedere che il territorio unito cioè del territorio unito di questo territorio unito a Trieste non interessa niente perché siamo usciti con la nostra bella delibera e vi hanno fatto una pernacchia perché una pernacchia vi hanno fatto vi hanno detto no cari signori Trieste ha deciso un'altra cosa per voi pordenonesi e voi chini proni quando io uso i termini forse forti forse volutamente forti di esercito di esercito dell'imperatore cinese questo siete sindaco a me sarebbe piaciuto ma io lo ripeto proprio proprio il nome di quell'unità che qualcuno parla qualcuno apre la bocca chiede unità e quando ha l'unità poi fa retromarcia perché qualcun altro gli dice di no ci chiedete unità ve la diamo ve la diamo e voi cosa fate adesso cambiate idea perché qualcun altro vi ha fatto cambiare idea faccia il sindaco con le palle scusi presidente prima del con le palle di Natale faccia il sindaco con le palle di Natale e si faccia commissariare e poi veniamo a un altro aspetto che veramente ritengo indegno indegno di un vivere civile perché vede assessore ogni tanto ho pensato se ci fosse stato un'amministrazione di centro-destra in regione che veniva a dirvi cari miei sapete cosa c'è sul vostro territorio voi non decidete decidiamo noi e o ci stai o ti levo il 30% e ti faccio il commissario lei onestamente il sede di replica mi dice cosa avrebbe pensato di quell'amministrazione non ho messa così perché com'è 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 la legge regionale non è regionale certo certo possiamo fare certo certo possiamo fare possiamo fare quello che vogliamo noi possiamo veramente possiamo anche non votarla questa delibera cosa succede no dove volete farlo e cosa volevate fare 5 mesi fa che ci avete fatto votare l'Utiunica avete cambiato idea o qualcun altro ha diviso o qualcun altro l'ha cambiata per voi assessore diciamoci le cose come sta o qualcun altro l'ha votata per voi l'ha cambiata per voi l'idea assessore è bello da politica questo ognuno può vederle come vuole io posso anche concordare dal punto di vista del capogru del capogruppo Tommasello quando prima si è girato verso il consigliere dal Massa ricordandogli dell'ospedale che avremo l'ospedale che già adesso che già adesso è un punto d'eccellenza non si sa dove sia non si sa quando sarà pronto però io posso capire il suo punto di vista che devi difendere e posso anche limitatamente capire le vostre posizioni di soggetti di questa politica di questa città e di quella parte politica però quello che non capisco è la posizione del sindaco la posizione del sindaco non la capisco perché il sindaco e ma non mi stancherò mai di dirlo questo sindaco sa perché perché lei io avevo creduto in lei all'inizio l'ho detto più volte ma lo ripeto perché quando vedo la gente che viene che viene a dire io arrivo dal mondo della società civile io non faccio parte dei giochi della politica mi metto a disposizione mi metto a disposizione io ci credo anche buonariamente io ci avevo creduto al suo regolamento sulle nomine che poi si è rimangiato nel giro di 4 e 4 8 però pensavo pensavo no nei fatti si è rimangiato perché nei fatti si è rimangiato perché il regolamento è ancora lì poi viene disatteso però il regolamento c'è come il regolamento è il nostro consiglio comunale altra cosa di norma potremmo spendere molte parole su questo comunque ci avevo creduto ma pensavo pensavo che è arrivato a un punto nel quale la maggioranza che l'aveva sostenuto l'ha fatta pernacchia perché gli ha detto non ti ricambiagliamo quindi statene a casa decidi che è una scelta tua pensavo che almeno si sentisse libero da vincoli da quei vincoli da quei fili delle marionette che si usano e potesse fare veramente a mio modo di vedere un atto di coraggio per questa città che credo gli abbia dato molto perché se lei stesso ci ha portato una delibera dove ci voleva un'utile unica se lei stessa era convinta di determinate cose lei adesso secondo me avrebbe gli strumenti per far capire ai cittadini pordenonesi che per una volta lei è dalla loro parte tanto ormai va fuori dai giochi l'ha detto lei ha detto lei che questo gioco non le piace più per motivi personali non entriamo benissimo allora faccia un atto di coraggio faccia vedere i pordenonesi che pensa veramente a loro quindi sul regolamento sul regolamento che dovremmo andare ad approvare sullo statuto chiedo scusa che dovremmo andare ad approvare stasera come ho detto l'altra volta non è che ci sia tantissimo da dire perché perché vede è molto generico l'abbiamo detto l'altra volta lei mi ha detto che è stato fatto volutamente generico ma allora vede come si fa a pensare come si fa a pensare veramente a credere veramente che qualcosa di generico possa regolare qualcosa che voi venite a sbandierare come di un'importanza tadica io ho sentito stasera discorsi di un sacco di persone che vengono a dire chiaramente di maggioranza che non si può non prendere al volo un'occasione così non si può non saltare su questo carro fantastico ma loro mi domando scusi assessore era una cosa che non si potevano fare prima era una cosa che non si potevano fare prima ma le spiego no no le spiego le spiego mi faccia finire no mi faccia finire io mi ricordo che in questo consiglio comunale beh già adesso se non ricordo male il corpo di polizia municipale c'è il corpo intercomunale con roveredo giusto abbiamo fatto una convenzione abbiamo è una convenzione perché si fa assessore perché si fa perché si fa la convenzione per risparmiare per accentrare dei servizi avere delle economie di scala avere dei risparmi giusto abbiamo lo sportello unico delle attività produttive se non ricordo con qualche altro comune se non ricordo male se non ricordo male abbiamo votato non tanto non tanto tempo fa anche quella sui rifiuti dove roveredo viene a conferire dei rifiuti e noi gli consentiamo di venire nell'ambito della zona nord abbiamo votato una cosa simile adesso non mi ricordo quindi vede quindi ci sono tanti strumenti ci sono tanti strumenti che non ci voleva il genio il genio del tra virgolette ricattato panontin per inventarsi e dopo vado a spiegare perché si dopo vado a spiegare perché ricattato panontin quindi questi strumenti fenomenali che noi non potremmo perdere sono tutti strumenti che se vuole se si vuole ci sono già o no cosa c'è di diverso dall'accentrare il corpo intercomunale di polizia e dall'accentrare l'ufficio bilancio per fare il bilancio dico uno oppure per tenere il costo del personale cosa c'è di diverso niente la volontà di farlo adesso però lo impongono adesso lo impongono perché? perché devono giustificare la porcata dell'abolizione della provincia il fumo negli occhi leviamo i costi della politica no non c'entra niente benissimo allora non c'entra niente se non c'entra niente mi spiega no secondo me io la vedo così secondo me è tutto un disegno unico unitario che parte da una cosa per arrivare alla io la vedo così poi per carità ognuno può vederla come vuole ma sa perché dico sa perché dico che non c'era bisogno e perché dico che è un diktat che non si deve e non si può accettare di essere imposto lei mi spiega se veramente siete convinti della bontà di questo di questo statuto bontà pur generico della bontà dello strumento dell'UTI perché non si prevede la possibilità per i cittadini di esprimersi noi abbiamo fatto un emendamento proprio chiedendoli abrogare la prima lettera dove si parla di quella cosa democratica cui si ricorre in determinate occasioni sa che ci sono un insieme di persone quelle che vede per strada che poi pagano lo stipendio a voi e a noi danno il gettone o il doppio gettone perché sembra che l'interesse sembra sembra no che poi sembra che l'interesse della stampa sia solo se noi arriviamo a mezzanotte per il secondo gettone o meno quindi sa che sono quelle persone no ma sa perché perché è triste vedere è triste vedere che in un dibattito tanto grave uno deve stare con i minuti contati per non arrivare al secondo gettone perché una città capoluogo non può permettersi due gettone e questa è la tristezza che il messaggio che passa il messaggio che passa è quale che qua dentro si perde tempo ma ma li abbiamo stufati ma io si ricorda come sono detto un'altra volta si ricorda assessore si ricorda un'altra volta che lei ha detto ognuno di noi spenderà le conseguenze pagheremo di fronte alla gente io ho detto no perché la gente non gliene frega più niente ormai i giornali si vendono sul secondo gettone su quello si vende il giornale comunque tornando al discorso sa quelle persone che sono là in mezzo alla strada che sono quelle che poi mettono l'urna a maggio nell'urna metteranno la scheda elettorale ecco ogni tanto in un paese democratico quando si vuole sentire l'opinione su determinate cose si chiede scusate secondo voi stiamo facendo una sciocchezzuola o meno io non dico che dovevate ricorrere perché ci sono paesi dove si ricorre sistematicamente al voto popolare al referendum credo che sia anche eccessivo perché a quel punto veramente non serve avere una classe politica una classe dirigente a quel punto basta far votare tutto per referendum sì no io ritengo però che in determinate materie in qualcosa che va tanto ad incidere soprattutto sulla vita di una nostra comunità si potrebbe forse avere la decenza di chiedere anche ai cittadini allora per carità io non dico di farlo oggi voi oggi prendete una decisione ma perché ma perché dovete impedire ai cittadini di esprimersi perché la paura avete paura di un voto negativo tanto non sarà un problema in un'altra amministrazione non è un problema vostro allora perché quando dicevo l'ho detto molte volte soprattutto a lei ma non perché sia lei perché erano materie sue siete un'amministrazione antipatica perché impedire al cittadino di esprimersi perché a priori dovete impedirgli al cittadino di votare sull'ammissibilità come? è una ceglialata no ma siamo d'accordo però vede parla no qui no fatemi finire se no poi dopo rimiate tardi se no dite che è colpa mia che sia dopo no stavo no volevo concludere no se no poi dite che è colpa no però vede ci tenevo di ma di Barzelletta ci avete raccontato voi con questa una meglio di questa non ce l'ho di Barzelletta una meglio di questa non ce l'ho di Barzelletta no ecco però ci tenevo a segnare vede su questo statuto c'è questo punto che io credo che veramente sia debole ma tanto debole e sia un punto antipatico perché privare io non so se da quale mente Celsa sia nato se qualcosa ha partorito da voi in unione con gli altri ma perché impedire al cittadino di esprimersi su questo non stiamo parlando di norme tributarie e fiscali anche la nostra Costituzione prevede che è vietato il referendum ma lì siamo chiari vai a chiedere al cittadino vuoi pagare le tasse ti risponde no quindi là posso capirlo ma qua vuoi chiedere al cittadino ma senti ma questo statuto che ti stiamo proponendo ti va bene o non ti va bene perché vietarlo a priori ecco io invito l'amministrazione a fare veramente una riflessione su questo non credo che significa aprire tanto alle minoranze credo che significhi più che altro aprire al buon senso una cosa di questo tipo lasciare la possibilità se e quando individuando i modi i quorum eccetera le modalità di proporlo qualcuno possa esprimersi su questa cosa perché io ritengo che ci sia sempre qualcuno che è giudice di tutti noi che sono i cittadini che sono fuori e che debbono e che debbono avere la possibilità di interloquire con l'amministrazione e con interloquire con i propri rappresentanti all'interno delle istituzioni ecco e un altro passaggio volevo volevo ribadire ed approfondire prima ho sentito a parlare di periferie io credo che noi fin quando continuiamo a ragionare così resteremo la periferia la periferia di questa regione resteremo sempre sempre i fratelli poveri i cugini di campagna usate il termine che volete Pordenone è un territorio dove si vincono le elezioni regionali la storia degli ultimi anni l'ha l'ha confermato quasi sempre Pordenone non ha mai non potrà mai avere a mio modo di vedere l'ambizione di avere un proprio candidato governatore perché è un gioco perché sono più bravi i triestini e udinesi a fare squadra però a Pordenone si vincono le elezioni perché si viene a Pordenone a prendere i voti e viene quasi sempre premiata con la vicepresidenza però poi di fatto di fatto quella vicepresidenza quel peso che magari si potrebbe avere non si riverbera in altrettanto peso a livello del territorio di ricadute sul territorio voi ce l'avete detto per anni quando eravamo noi in regione a governare la regione ma Trieste ci tratta male noi ve lo stiamo dicendo portandovi anche i dati e quindi come no come no Siriani qui abbiamo che abbiamo la vicepresidenza quindi la differenza era mi consenta mi consenta mi consenta di sottolineare una cosa la differenza era che quando voi ci dicevate che da Trieste non arrivavano i soldi i dati stessi dei bilanci che ci portate facciano vedere il contrario perché se lei va a vedere le slide sui bilanci gli ultimi bilanci ricchi con trasferimenti sono quelli quando governava il centro-destra invece quello che noi vi diciamo adesso è sotto gli occhi di tutti perché abbiamo perso la prefettura abbiamo perso l'ospedale perderemo la questura nessuno parla diventiamo commissari commissariato di questo nessuno dice niente questo qua è quello che ci sta regalando l'amministrazione di centro-sinistra il filone unico che parte da Pordenone città va a Trieste per arrivare a Roma dove si trova più spesso la nostra governatrice rispetto che stessi a Trieste a pensare ai fatti dei friulani ecco concludendo il ragionamento che facevo prima io credo che noi io credo che fin quando noi nonostante nonostante il peso che diamo a chi va a vincere perché ripeto secondo me qua si vincono le elezioni continuiamo a fare il teatrino e a lavorare per gli altri ma non per noi non per noi pordenonesi resteremo sempre la periferia con buona pace le triestine e gli udinesi tornando alla questione dell'ospedale l'ho ricordato più volte voi qua per carità avete fatto una battaglia politica sull'ospedale l'avete vinta è stato bravo il fiume a non parlare dell'ospedale il fiume che col sindaco Bolzonello aveva lanciato l'idea dell'ospedale in comina se voi parlavate durante le elezioni regionali con qualcuno del fiume avevano il diktat non si poteva parlare dell'ospedale perché il PD andava dall'altra parte il PD che veniva a dirci che il project financing era la summa di tutti i mali però a Udine hanno costruito il project financing però a Udine non so si può fare a Udine però si può fare il project financing invece a Pordenone non si può fare però per carità è un gioco politico l'avete fatto bene qual è stato l'esito qual è stato l'esito di questo che noi l'ospedale non ce l'abbiamo lo avremo forse nel 2020 2021 il CRO va giù la nostra sanità è una sanità di serie B allora abbiamo fatto squadra? no chi ha vinto questo? chi ha portato? a chi ha giovato questo? a Udine e a Trieste se non sbaglio i soldi stanziati per Pordenone sono dati a Burlo Garofalo a Trieste? non so qualcuno più bravo di me forse lo ricorderà questo allora vede Assessore e qua torno sull'invito al Sindaco se veramente vogliamo fare qualcosa per i nostri cittadini per i nostri concittadini sarebbe il caso di farlo veramente intanto cosa fanno? ci fanno commissariare ci vengono a commissariare io credo che sia sempre meglio essere commissariati mantenendo le proprie idee piuttosto che chinare la testa di fronte alle decisioni di altri per il bene di altri e non per il proprio territorio grazie grazie consigliere Ribetti bene passiamo al secondo intervento bene consigliere Dalmas prego dieci minuti la posizione di Forza Italia è di assoluta contrarietà a questa a questo secondo intervento è di assoluta contrarietà a questa a questa delibera perché è contraria all'impianto della legge e non perché sia contraria all'idea che in Italia dobbiamo fare le unioni che portano le fusioni dei comuni ma perché riteniamo che l'impianto sul quale è calata questo statuto e quindi di conseguenza il suo impianto normativo sia assolutamente fragile sia incoerente sia incompiuto pensate di costruire una riforma epocale per i fiuli Venezia e Giulia così nelle dichiarazioni dei vari esponenti della giunta regionale in realtà avete realizzato una sola cosa la soppressione di fatto dell'ente politico della provincia di Pordenone sostituendolo con una mini provincia con tanto di direttori generali nonostante lo sforzo che noi abbiamo fatto per correggere e migliorare il testo vi abbiamo proposto degli emendamenti che vanno sia nella direzione auspicata e ricordava prima giustamente Ribetti di un ordine al giorno votato in unanimità qui dentro cioè dell'Uti unica provinciale sia l'insegna di una cosa che per l'Uti di Pordenone non serve cioè la figura del direttore in quanto abbiamo bravissimi funzionari in grado di assolvere senza duplicare i costi inutilmente dell'Uti e voi avete respinto questo emendamento ripeto contrarietà assoluta all'impostazione che avete dato assolutamente dirigista non avete ascoltato le comunità non avete sentito nessuno avete solo ossequiato il governatore del Friuli Venezia Giulia e la testimonianza diretta l'abbiamo avuta dall'intervento del capogruppo del Partito Democratico dell'amico collega Tomasello il quale nello sforzo non facile di giustificare la bontà di questa legge mette in campo argomenti quasi morali ma questo è un vizio ideologico della sinistra è quello di utilizzare noi siamo i migliori voi siete i peggiori noi siamo il progresso voi non siete il progresso questo caro Fausto è quanto sei riuscito a dire questo è quanto sta dicendo il tuo partito perché questo è l'atteggiamento che ha il governatore del Friuli Venezia Giulia l'ha avuto sulla riforma sanitaria l'ha avuto rispetto a questo territorio bene oggi voi adesso chiedete l'appoggio di tutto il mondo di tutto ciò che si muove intorno a Porto Enone per gli stati generali che lei sindaco il presidente della provincia ha convocato per venerdì sappia che non ha il mio appoggio credo neanche degli altri colleghi del gruppo perché solo una cosa potrebbe essere rivoluzionaria in questo momento è forse far desistere dal disegno egemonico udinese che rappresenta ed è ideologicamente sposato nelle scelte nella sanità e nell'autonomia locale fatte dal governatore del Friuli Venezia Giulia che è il depauperamento di questo territorio perché non deve avere la rappresentanza la dignità della complessità fate delle riforme che sono caratterizzate da complicatezza ma non sapete gestire la complessità questo è il vostro problema bene sindaco un invito appassionato che le rivolgo lei scelga di fare un gesto rivoluzionario come rivoluzionare la verità cioè ammetta le responsabilità della sua amministrazione della sua maggioranza del Partito Democratico di Pordenone si presenti di missionario in quell'occasione e forse vedrà che finalmente avrà un'attenzione diversa dai cittadini dalle forze politiche che in questo momento avversano il suo disegno e con questo chiudo perché noi siamo non parteciperemo al voto in quanto non intendiamo in alcun modo partecipare a questo procedimento provvedimento che riteniamo assolutamente incoerente e inconsistente Grazie consigliere consigliere Piccin prego Grazie presidente brevissimamente per rafforzare e sottolineare ulteriormente ciò che ho sostenuto durante il precedente intervento per evidenziare che questo l'approvazione di questa delibera di statuto sarà un macigno che crollerà che cadrà che si abbatterà sui consigli comunali che lo hanno approvato non non se ne è reso conto l'assessore alle autonomie locali se ne è resa conto benissimo la presidente il governatore di questa regione la presidente Serracchiani che dice nella chiusura e nei ringraziamenti in aula che ringrazia tutti soprattutto la sua maggioranza e che questa e che questa riforma si farà che vogliano o non vogliano i cittadini di questa regione di fronte di fronte a tali affermazioni e ad un finto coinvolgimento dei comuni dei sindaci dei consiglieri regionali e dei territori io non posso esprimere così come ho fatto in altra sede un voto non ho votato la riforma degli enti locali e le parole che ha detto la presidente in aula sono state per me derimenti io sono contraria a questo modus operandi non sono per la decisione a tutti i costi e contro di tutti e con la forza per questo motivo esprimo la mia posizione che credo sia anche quella del mio collega ma non mi meraviglierai se lui volesse fare una dichiarazione di voto in difformità che sarà quella di astensione dal voto non astensione sulla delibera ma astensione dal voto grazie grazie consigliere consigliere Loperfido prego grazie presidente è un secondo intervento al quale aggiungerò anche la dichiarazione di voto in modo tale da non portare via eccessivamente tempo un refrain che avete tante volte sottolineato quando l'opposizione ha portato il proprio contributo in sede consigliare e ogni volta che il contributo si dilungava per i normali tempi della democrazia avete messo sul conto il secondo gettone e il fatto per esempio mi riferisco al consiglio provinciale quando bisogna pagarli straordinari salvo che poi quando volete voi si fanno sedute sedute e fiume si fanno ordine consigli comunali perché dovete portare subito all'ordine del giorno il piano regolatore quindi insomma avete fatto sempre quello che avete voluto e anche questa volta non avete dimostrato neanche un minimo di attenzione nei confronti di una questione che dovrebbe essere fondamentale per una parte politica come la vostra la consultazione popolare la possibilità che il cittadino di Pordenone che vota voi che siete i loro rappresentanti democraticamente eletti i cittadini di Pordenone non hanno neanche la possibilità di dire la loro sul fatto che possa andare bene o meno partecipare a questa a questa a questa unione e allora guardatevi guardatevi non siete stati in grado di portare a voi neanche un voto in più rispetto alla maggioranza anzi avete fatto andare via anche il vostro assessore provinciale che qua è opposizione ma è nella vostra parte politica assessore provinciale del partito principale che sostiene il PD nel governo della città e della provincia l'avete fatto andare via per questioni probabilmente dedicate all'aspetto meramente democratico non siete stati in grado neanche di fare gruppo di fare unione voi dite di fare unione per il territorio non siete stati neanche in grado di apportare un voto in più rispetto a questa a questa delibera dovrebbe farvi pensare allora dovrebbe farvi pensare come dovrebbe far pensare anche voi consiglieri di maggioranza quando è con stupore e delusione ho visto che sul sito del comune di Pordenone prima ancora che si andasse a discutere della riforma dell'Uti era già pubblicato sul sito del comune di Pordenone il fatto che l'Uti del noncello fosse un organo di governo della città questa è la dimostrazione di quella che è la concezione che avete della libertà di coscienza del consigliere comunale per voi era già per scontato il fatto che fosse una cosa da votare in modo ed approvarla invece doveva essere soltanto pubblicato la volta in cui l'Uti del noncello entrasse in vigore perché non era per niente scontato il fatto che l'Uti del noncello fosse una cosa alla quale il comune di Pordenone doveva aderire e invece per voi il comune di Pordenone doveva aderire perché questo era già scritto e allora di fronte a questo modo di fare di fronte al modo di fare che vi permette di fare spallucce di fronte a quelli che vi dicono avete abolito le province ma avete creato 17 o 18 Uti adesso dovete ancora definire 17 Uti nella quale ci saranno ecco già li litigate perché ho ricevuto il suggerimento ho ricevuto il suggerimento da parte di Franchine che dice 17 lei mi dice 18 mettetevi d'accordo tra di voi almeno su questo comunque che 17 o 18 siano 17 o 18 siano alla fine ci saranno 17 o 18 direttori generali avete voluto togliere 4 consigli provinciali forse 4 presidenti della provincia 4 giunti provinciali avete messo 17 o 18 direttori generali ci saranno i subambiti non avete dimostrato che si andrà a risparmiare mi chiedo per quale motivo dovremmo essere coinvolti a votare questa cosa che è nebulosa non sappiamo dove ci porta e non sappiamo assolutamente con che tempi si potrà realizzare non avete per niente tagliato non avete per niente tagliato i costi della politica state soltanto diminuendo la democrazia in questa comunità e quindi per questo motivo noi non vogliamo avere a che fare assolutamente niente con questo voto e ci asteremo dal voto grazie consigliere consigliere Ribetti grazie grazie presidente io continuo brevissimamente il mio ragionamento di prima proprio per ribadire l'avevo già detto prima l'ha detto il collega Loperfido e ribadire come noi non vogliamo prima avevo detto sporcarci le mani con questa cosa e non lo faremo non parteciperemo neanche al voto è per questo che abbiamo deciso di fare non una dichiarazione di voto ma proprio un intervento non ci arriviamo neanche a dichiarare questa cosa perché il voto proprio non ci avviciniamo però vede io prima di andarmene io prima di andarmene visto che voi dovrete votare ci tenevo a richiamare l'attenzione su quello che ho detto prima perché resta fermo e vaio tutto quello che ho detto l'attenzione sulla perché potete ancora farlo potete salvare minimamente la faccia di qualcosa di democratico sopprimendo quella lettera di quell'articolo vado a memoria 9 3 forse non mi ricordo ho perso ho messo via le carte ecco quello sul referendum io credo che lì potete forse forse salvare almeno la faccia di una parvenza democratica qualcosa che democratico non è perché farsi imporre qualcosa da Trieste e non poter mettere a casa nostra non poter dire e non poter fare quello che vogliamo a casa nostra credo che sia qualcosa di molto triste io capisco prima sentivo qualche intervento di qualche collega di maggioranza si parlava di riforme volete bloccare le riforme mi sembra la stessa cosa che sento dire al Senato quando si vede in televisione mi fanno francamente ridere perché è vero ben vengono le riforme ma non riforme a tutti i costi ad ogni costo anche a costo del buonsenso io quando sento parlare di abolizione della provincia poi mi trovo una provincia che continua ad esistere un consiglio provinciale che esiste ma vedo che l'unica cosa che è stata abolita è stato il voto dei cittadini rido quando sento parlare stessa cosa al Senato rido ugualmente quelle non sono riforme quelle prendono in giro la gente dove sta il risparmio cosa avete solo perché si è privato il cittadino della possibilità di scegliere i propri eletti viene depotenziato quindi continuiamo a fare i nominati vogliamo nominare il partito decide che quelle persone andranno a fare i consiglieri regionali barra senatori altri no poi chiaramente ci vanno giù col gettono andranno giù gratis avranno rimborso spese ma qual è il problema dobbiamo essere schiavi del spendi review a tutti i costi benvenga la spendi review ma quella vera non quella che prende in giro i cittadini allora riforme sì ma quando sono riforme non quando prendono in giro i cittadini quindi voi questo avete deciso di farlo ne siete convinti e vorrei veramente essere veramente vorrei essere uno spirito invisibile per stare dentro la testa di tutti i consiglieri di maggioranza per capire quanti di loro questa sera premeranno quel pulsante verde con convinzione sono sicuro che non ce ne sono molti perché io molti di loro li conosco so che sono persone intelligenti so che sono persone serie oh ma ti do della persona intelligente chiaramente non mi riferivo a te e ti arrabbi lo stesso ho detto ho detto che li conosco sono persone intelligenti si arrabbiano cioè è una cosa incredibile cioè allora se dico che sono stupidi si arrabbiano dico che sono intelligenti si arrabbiano lo stesso ho detto era un invito a mettersi una mano sulla coscienza visto che li faccio persone intelligenti molti di loro non tutti ribadisco quindi che si mettano una mano sulla coscienza e che capiscono cosa votare per quanto riguarda soprattutto il nostro emendamento grazie voglio pensare che abbia detto politicamente intendendo politicamente intelligenti non intelligenti vabbè comunque non importa consigliere Daniello prego sì grazie non mi avete convinto per niente lo so quindi mi asterrò dal voto come? prima 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 del voto la mia perplessità sono e rimangono quella della partecipazione quella del diritto al voto dei cittadini e della rappresentanza e del venir meno spero di sbagliarmi dei servizi direttamente dati al cittadino in maniera efficace ed efficiente queste le mie motivazioni grazie grazie consigliera consigliere Piccinato prego grazie ribadisco anch'io la mia netta contrarietà a questo tipo di intervento di riforma che più che riforma sembra un informa nel senso che non ha più una forma ribadisco la mia contrarietà totale alla svendita del peso dei cittadini di Pordenone e voglio chiudere dicendo perché non parteciperò nemmeno io al voto dicendo che non siamo ancora riusciti ad integrare Valle Noncello in Pordenone non si riesce neanche a fare una sistemazione di un parcheggio e viene veramente si pensa ancora in questo sistema qua quindi ripensiamo veramente tutto ma non in questo modo qua grazie bene dichiaro chiuso il secondo intervento passiamo alle dichiarazioni ah no scusa l'amministrazione ha qualcosa da dire? no ah prego prego date la parola grazie avevamo già concluso la precedente discussione con una mia dichiarazione che semplicemente ribadisco questo è semplicemente un atto che rafforza la nostra sovranità ed è un atto di coraggio esattamente rispondendo quello che sollecitava il consigliere Ribetti mi dispiace che sia andato via perché mi ero segnato il numero di termini tipo sudditanza proni esercito imperiale cinese soldatini e marionette secondo me è indicativo della sua mentalità politica che si sposa perfettamente con la nuance della camicia nera che stasera indossava ci vedo un'affinità di mentalità questo allineamento da squadra molto compatta circa dalmas consigliere franco dalmas lo ringrazio per l'affetto devo dire che è vero avevamo già detto altre volte una reciproca simpatia al di là delle schermaglie politiche esiste questa sera comunque i suoi apprezzamenti mi hanno rincuorato mi hanno rincuorato per l'assoluta e mi hanno illuminato su quello che saranno i prossimi mesi di questa amministrazione rafforzando la determinazione evidentemente perché io credo che una cosa deve essere chiara a tutti la difesa del nostro territorio nelle difficoltà che noi conosciamo in tutti i sensi profilo politico istituzionale tutto quello che volete voi non è una prerogativa della destra è una prerogativa della nostra comunità e io mi vanto ed è per questo che ho chiamato gli stati generali anche come presidente di una provincia organismo di secondo livello di rappresentarlo e quindi il momento in cui mi sono deciso ma con grande determinazione a chiamare questo momento di confronto è perché mi sento super partes e nel momento in cui si è super partes si intraprendono azioni che non sono necessariamente della destra volevo mi dispiace che non ci sia ma tanto queste cose gli verranno sicuramente riportate e sarebbe particolarmente grave se visto che gli altri consiglieri che sono in provincia hanno tutti insieme abbiamo votato un documento diciamo preparatorio a questo degli stati generali sarebbe un peccato poi non vederli non vederli non tanto per una lista delle lagnanze ve le posso scrivere e mettere in busta e così le scopriamo il giorno dopo per vedere quante non azzeccate ma piuttosto di vedere le proposte perché io di proposte questa sera ne ho sentite proprio poche a prescindere da quello che è un diritto e cioè di essere contro essere contro è un conto proporre nel fatto di non condividere le idee secondo me è un altro quindi io ribadisco il fatto è un momento storico questo è un momento storico mi dispiace che l'aula non veda la parte della minoranza ma credo che abbia ampiamente avuto con otto ore di dibattito la possibilità di esprimere le proprie idee fino in fondo abbiamo tenuto conto non è un numero a caso è un numero matematico questo la somma dei due periodi degli interventi che abbiamo fatto quindi il momento storico mi rende particolarmente felice di essere qui come sindaco di questa città e come tra quelli che sono assolutamente convinti della necessità di una riforma degli antilocali di essere qui a discutere e aver portato una delibera di questo tipo perfettibile che ci dicono esattamente gli altri dove questa delibera era così perfettibile e qual era il giusto metodo perché insisto di proposte noi ne abbiamo sentite esattamente zero quindi grazie per la vostra presenza grazie per il dibattito e grazie per alla fine condividere questo tipo di convincimento perché questo è il convincimento che ci farà diventare quella città che ci darà le dimensioni per esercitare il nostro peso politico fino in fondo in regione grazie signor sindaco bene passiamo alle dichiarazioni di voto consigliere Manfrin prego sì grazie presidente grazie sì noi signor sindaco siamo convinti che che l'unione arricchisca arricchisca anche nelle sue diversità e che quindi questa sia la strada giusta da percorrere e come diceva anche lei prima non perché ci viene imposto insomma ma per una per una giusta lettura della realtà che ci circonda quindi ringraziamo il fiume ringrazia l'amministrazione ringraziamo lei ringraziamo l'assessore Masser che ha lavorato verso questa direzione siamo anche altrettanto convinti che questo sia un passaggio intermedio per una futura fusione dei comuni quindi per queste ragioni e per tutte le altre che hanno esposto in precedenza i miei colleghi voteremo a favore grazie grazie consigliere mafring nessun altro iscritto pertanto sì prego consigliere freschi grazie presidente non l'avevo detto prima ma era scontato dall'intervento che avevo fatto che per quanto ci riguarda noi siamo favorevoli a questa delibera perché pensiamo sia un primo passo verso un ragionamento sulla collaborazione dei comuni la parola fusione la lascerei ancora sullo sfondo perché penso che tutti i processi hanno bisogno di qualche tempo e l'utile forse è iniziare un cammino per arrivare poi a una definizione di altro tipo che avrà bisogno delle sue naturali maturazioni grazie grazie consigliere freschi bene nessun altro iscritto pertanto dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto e comunico di dare avvio alle procedure di votazione allora prima voteremo l'ordine del giorno che è stato presentato dalla consigliera Daniello dal consigliere del Ben e dal consigliere Pietro Polli Charmè è un documento è un documento che ha gli atti dopo di che voteremo l'emendamento numero uno bene allora pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dalla consigliera Sonia Daniello consigliere Giovanni del Ben consigliere Pier Alvise Pietro Polli Charmè scusate alla proposta di deliberazione numero 33 dichiaro aperte l'operazione di voto dichiaro chiuso l'operazione di voto lecita la votazione è seguente presenti 23 votanti 23 maggioranza 12 favorevoli nessuno contrari 23 astenuti nessuno l'ordine del giorno è stato respinto bene pongo ora ai voti l'emendamento numero uno alla proposta di deliberazione numero 33 presentato dal consigliere Emanuele Loperfido che vi è stato anche distribuito gruppo Fratelli d'Italia poi dal consigliere Piccin Dalmas Giannelli Cabibbo Tavella Lopipero Pedicini Peresson dichiaro aperte l'operazione di voto dichiaro chiuso l'operazione di voto l'esito della votazione è seguente presenti 23 votanti 23 maggioranza 12 favorevoli nessuno contrari 23 astenuti nessuno l'emendamento è stato respinto bene pongo ora i voti la proposta numero 33 legge regionale 12 dicembre 2014 numero 26 riordino il sistema regione autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e rialocazione di funzioni amministrative atto costitutivo della unione territoriale intercomunale del noncello e statuto dell'unione territoriale intercomunale del noncello approvazione e dichiarazione immediata di eseguibilità bene dichiaro aperte l'operazione di voto dichiaro chiuso l'operazione di voto l'esito la votazione è seguente presenti 23 votanti 23 maggioranza 21 favorevoli 23 contrari nessuno astenuti nessuno la deliberazione è stata approvata pongo ora i voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte l'operazione di voto dichiaro chiuso l'operazione di voto legge della votazione è seguente scusate presenti 23 votanti 23 maggioranza 21 favorevoli 23 contrari nessuno astenuti nessuno l'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile bene signori grazie sono le 23 35 il prossimo consiglio verrà convocato per lunedì prossimo presso il vostro domicilio grazie a tutti e buonanotte lunedì prossimo grazie grazie